Musica Musica Bisogna toccare l'oscurità per arrivare alla luce. Questa frase mantra ci introduce a questa serata di live in cui parleremo proprio del rapporto tra luce e oscurità, luce ombra, luce tenebre all'interno della narrativa di Tolkien e lo facciamo con un ospite molto gradito, nuovo che non abbiamo mai visto su questi lidi, su queste sponde, il nostro Andrea Marcianò che vado a salutare. Ciao a tutti, ciao Paolo, grazie mille. E dovete sapere che è lui che ha proposto di parlare di questo argomento, visto che già un anno fa mi ha mandato la sua tesi di laurea, dico bene, proprio basata su questa tematica e quindi ho pensato perché non ne parliamo in una bella live con tutto il nostro pubblico e vedo che siamo già in abbastanza e vado a salutare la nostra intessa che non manca mai Mari Zang, saluto anche Vincenzo Beretta, bentornato, salutiamo Milenia di Capire Amare il Silmarillion, poi c'è il nostro Francesco Spoletti, Finrod86, il nostro Davide Jacopo Verga che non manca mai, che bello vedere finalmente in live insieme. Eh sì, beh dai, facce nuove, portiamo nuove persone a parlare di Tolkien, visto che ce ne sono tante. Poi salutiamo il nostro Gianfranco Bux e anche lo scuro signore che raccomanda a tutti di fare i bravi. Poi salutiamo Andrea Denti e il nostro immarcescibile Thor Kalel, Black Gandalf e siamo già abbastanza. E anche Malinur da tanto tempo, ci vediamo, ben trovata anche a te. E quindi, beh, allora cominciamo con una domanda di rito. Allora, il nostro Andrea per quelli che non lo conoscessero, ecco adesso dirà qualcosa di sé, presentati pure di chi sei, cosa fai e soprattutto domanda fondamentale, come hai conosciuto Tolkien? Come ti sei appassionato a lui? Dove l'hai scoperto? Quale mezzo ti ha fatto entrare nella terra di mezzo? Allora, io sono, o meglio, sono stato uno studente innanzitutto della Statale di Milano, ho studiato scienze umanistiche per la comunicazione, con cui appunto mi sono laureato con una tesi su Tolkien, in particolar modo con il mio professore di estetica, dal titolo La polarità di luce e ombra nel signore degli anelli, un percorso di estetica d'immagine. Ecco, io in realtà, diciamo, ho deciso di fare una tesi su quel titolo e su questo argomento, cioè, è una decisione che ho preso d'impulso, però non sono tolkieniano da tanto tempo, in realtà Tolkien l'ho scoperto e quando dico scoprire, intendo dire appunto leggere il romanzo qualche anno fa, ecco. Però sei stato assolutamente eroico, perché non è facile in Italia fare una tesi di aura su Tolkien, eh? Assolutamente. Ci provavi ai miei tempi e ti sparavano direttamente in studio del professore. Adesso forse la situazione migliorata, ma credo che sia così comune, quindi applausi Andrea. Infatti, infatti, guarda, io infatti sono andato dal mio professore di estetica, che appunto lui aveva già fatto dei lavori su Tolkien e quindi, cioè, questa cosa mi aveva invogliato proprio a scrivergli, a contattarlo. Perché in realtà la cosa l'avevo proposta inizialmente a dei professori di cinema, che è il mio campo, ma loro mi hanno appunto sbattuto la porta in faccia, no? Quindi diciamo che appunto, per tornare a chi sono, io sono un ex studente che è adesso di cinema, di comunicazione in campo umanistico. Ora come ora non studio più, ecco, sono laureato in una laurea triennale, specifichiamo, quindi il mio percorso di studi non è ancora completato tecnicamente, quindi vorrei continuare a studiare attualmente, però la cosa che mi limito a fare è quella di specializzarmi nel campo della critica cinematografica e degli studi cinematografici. Quindi sostanzialmente quello che faccio è questo. E io mi sono avvicinato a Tolkien, per arrivare all'ultima parte della domanda, diciamo tramite un film di Peter Jackson. Perché la mia generazione, io sono del 99, si sono tutti avvicinati ai film, anche perché nel 99, se si va a vedere nelle edizioni dei DVD di Peter Jackson, appunto nei dietro le quinte, nei backstage e quant'altro, si può vedere che loro hanno iniziato proprio a lavorare, diciamo, al film a partire dal 99. Quindi, cioè, la mia generazione è proprio letteralmente nata con i film del Signore degli Anelli e della trilogia di Peter Jackson. Quindi io l'ho conosciuto prima con i film e poi mi sono appunto, come dicevo prima, avvicinato ai libri, che ho riscoperto qualche anno fa, anche se in famiglia appunto il fantasy si legge, si è letto molto. Io prima di leggere Tolkien ho letto Harry Potter, per intenderci. E quindi niente. È giusto, perché la tua generazione comunque è venuta su con quel immaginario là. Cioè, io sono convinto che i film di Peter Jackson sono stati uno spartiacque tra il Tolkien prima e il Tolkien dopo, cioè non nascondiamoci. A livello proprio mass mediale è diventato veramente un prodotto globale grazie ai film di Peter Jackson, come Harry Potter. Cioè, uscivano tutti gli anni quei film lì, quindi era il momento cardine, uno se li andava a vedere tutti e due e l'immaginario della vostra generazione, anche quella un po' prima, perché tu sei del 99, vabbè, potresti essere mio figlio. È stata forgiata da questo immaginario qua. Ci sta, non voglio dire. Quando ero piccolo potevo solo avere il film di Bakshi in videocassetta e avere il libro, ecco, che mi leggeva mia mamma, ma non c'era altro. Già avere i libri game a inizio anni 90 sembrava una rivoluzione copernicana. Quindi ci sta, non credo che sia un problema. Ma c'è gente che ha scoperto Tolkien con la musica e i gruppi black metal o i videogiochi, quindi che problema c'è? Io dico sempre che ci sono molte chiavi, vie di accesso alla terra di mezzo, quindi non bisogna avere minimamente problemi o farsene. Intanto saluto un po' di persone. Leonardo Fantoni, è benvenuto anche a te. La nostra Emilia che sarà qui la settimana prossima, perché adesso la sparo grossa. Domenica prossima stiamo organizzando una live di, una prima live almeno, di lettura e commento dell'Atrabet. Una roba impegnativa, eh? Dialogo filosofico tra Finrod e Andrette sulla differenza tra uomini, elfi, morte e mortalità, destino, libero arbitrio, bellissimo. E ci sarà la nostra Emilia. E poi ci sarà Riccardo Riccobello, ci sarà Frank di Cronache e ci sarà anche Andrea Locurto, che saluto qui, che ci saluta tutti. Lo trovate su Tolkieniani e Martiniani Anonimi su Facebook. E poi salutiamo anche la nostra Marina, grazie di essere passata anche tu a vedere questa live. E quindi adesso per arrivare nello, nello specifico del, del tuo lavoro, allora si può cominciare ad analizzare il problema della, del rapporto tra la luce e ombra all'interno dell'opera di Tolkien in chiave di polarizzazione. Oggi termine che va molto, eh? La polarizzazione sui social va tantissimo e l'algoritmo si basa sulla polarizzazione. E già Tolkien l'aveva pensata così, perché effettivamente la, eh, tutta la vicenda della, della Terra di Mezzo, il leggendario un Tolkieniano, parte da una polarità positiva di luce, eh, per arrivare a una polarità negativa di oscurità. E progressivamente possiamo dire che tutta la storia è una caduta nell'ombra sempre più, eh, tenebrosa che però poi viene, eh, illuminata da sprazzi di, di luce che poi corrisponde anche alla grazia. Poi magari anche parleremo del rapporto tra elfi e uomini e della famosa frase di Amazon con la quale ho iniziato questa serata. Allora, eh, se è vero che la luce e l'ombra in Tolkien sono le due polarità di questo mondo e come ha detto la Flieger si va sempre da un segno più a un segno meno e questo lo si vede nella storia e lo si vede anche nelle lingue che progressivamente si, si allontanano sempre di più dalla, dalla luce iniziale e si caricano di, eh, particolari oscuri. Prendete il nome di Tingle che il passaggio dal, dal Quenia al Sindarin cambia completamente, si scurisce, eh, perché rappresenta già anche l'oscurità e l'oscurimento del, del personaggio. Allora, eh, possiamo dire che la, eh, la caduta nell'ombra sia, eh, effettivamente una, una prova, cioè una, un, uno degli effetti di questo, di questa storia che progressivamente cade e da uno stato chiamiamolo edenico verso l'oscurità e questo anche riflesso nei personaggi. Tu ti sei occupato di questi, di questi problemi e hai preso in, hai preso in considerazione anche alcuni di questi personaggi, secondo la, poi ovviamente lo studio che hai fatto su alcuni testi tuoi keniani, che immagino maggiormente nel Signore degli Anelli. Sì, sì, esatto. Eh, appunto, lo studio si è concentrato principalmente sul Signore degli Anelli. Eh, quindi, eh, ci sono chiaramente dei riferimenti anche ad altri personaggi tolkieniani, eh, soprattutto che fan parte del, del Silmarillion e quant'altro. Ma per questioni anche di spazio ci siamo dovuti limitare, ecco, sostanzialmente. Però si potrebbero fare anche degli esempi interessanti e riguardo, riguardo appunto a come, eh, ai personaggi, ecco, insomma, eh, possiamo dire profondamente oscuri, tenebrosi all'interno, eh, del Silmarillion. Uno, proprio il più oscuro di tutti, mi verrebbe da dire, un Goliant, che è una, eh, un arachnide, un arachnide che ingoia tutto, eh, tutta la luce, eh, e addirittura, si dice, arriva a ingoiare se stessa alla fine della sua vita, della sua esistenza. Quindi, eh, sì, esattamente, il, la, diciamo che questa, eh, questa dinamica di luce e ombra all'interno del, del, del Legendarium tolkieniano è un po' ovunque, ok? A partire dallo Hobbit fino ad arrivare appunto agli ultimi testi, agli ultimi, le ultime bozze che, che Tolkien ha scritto in vita. ma perché lui sostanzialmente, eh, diciamo, eh, vedeva proprio così il mondo, mi verrebbe da dire, no? Come una dinamica dove non c'è nulla di, eh, esattamente, eh, appunto, celestiale, fatto di luce, se non proveniente dal divino, e, eh, non c'è neanche nulla di totalmente oscuro, mi verrebbe da dire. È tutta un po' una scala di grigi, si direbbe oggi, ok? La polarità, all'interno dei, della Terra di Mezzo, del mondo di Arda, è proprio questo. Immaginiamo due poli opposti che si attraggono a vicenda e allo stesso tempo si, eh, allontanano, si mischiano in certi casi, in certi casi sono divisi nettamente, come nel caso, eh, appunto, della, eh, della creazione del mondo di Arda, no? In quel caso tutto parte da Erui, l'Uvatar, dal, eh, dalla divinità del, eh, del mondo di Arda. È da lì che arriva la creazione. Eh, mentre per quanto riguarda, appunto, anche banalmente i Valar, che tutti forse potrebbero considerare come delle divinità, eh, greche, ok? Sebbene ci siamo, i greco-romane, ecco, insomma, siamo in quella. Oh, anche di Glinge, perché ci sono anche quelle. Insomma, diciamo, quanto è un classico, pagano di tipo classico. Esatto. Ecco, in realtà, anche loro hanno dei difetti, lo vediamo benissimo nel Silmarillion, no? Eh, insomma, i Valar, eh, ci sono Valar che, appunto, hanno dei, eh, sono, sono anche contaminati dall'ombra. Possiamo fare il nome, il nome più eclettico, ok? Melkor, ok? Per dirne uno. E quindi... E anche i Maiar. E anche i Maiar, assolutamente. E quindi le gente angeliche minori, le divinità minori. Esattamente, anche i Maiar, poi magari ci ritorneremo su, su soprattutto i Maiar, quale Maiar, tra i tanti. Eh, quindi, diciamo che c'è, appunto, questa specie, appunto, di, di polarità. Sarebbe, cioè, è anche un po' il termine giusto, proprio perché non è mai né bianco né nero. È, appunto, una calamita di cose che si attraggono. E in questa cosa ci entra anche un po', diciamo, quella che, ehm, quella che è la corruzione del tempo, no? Quella su cui si basa l'immortalità degli elfi, secondo Tolkien. Cioè, gli elfi sono immortali, ma questo non è un dono, no? Anzi, la morte degli uomini è di base proprio un dono. Quindi l'immortalità, che tra l'altro è una cosa che gli uomini, a cui gli uomini, nella terra di mezzo, aspirano, mentre per quanto riguarda gli elfi aspirano alla morte, quindi c'è anche questo, ehm, diciamo, ehm, gioco delle parti, no? Dove uno desidera il dono dell'altro. L'immortalità non è altro che, appunto, una, un continuo, ehm, ripetersi di cicli. Perché secondo il, l'ordine naturale del, all'interno della terra di mezzo, la storia è fatta di cicli. All'interno di uno dei testi, ehm, che abbiamo, che ho, appunto, ehm, su cui mi sono ispirato, che ho preso fonti e quant'altro, ehm, per la tesi, che è Tolkien, Light and Shadow. Eh, un testo, tra l'altro, corale, dove ci sono più teste, quindi adesso mi perdoneranno. E che è anche tradotto in italiano, tra l'altro. Sì, sì, tradotto in italiano. Si trova su Amazon in Kindle, quindi se volete compratelo. Certo, vi dico anche il curatore, che tra l'altro è italiano, ehm, che è il, adesso non, ecco qua, Giorgio Agnoloni, ok? Ecco, all'interno del testo si fa notare una cosa, ovvero che il tempo, la storia, è come una freccia, una freccia lanciata da un arco. Cioè, è una cosa a cui tu non ti puoi sottrarre, forse è l'unica cosa a cui non ci si può sottrarre, no? E questa, e diciamo che questo pensiero, eh, è strettamente collegato alla polarità, eh, della luce dell'ombra. Perché, appunto, eh, secondo la visione all'interno della terra di mezzo fatta da Tolkien, la, eh, diciamo che la luce si corrompe sempre di più senza mai tornare indietro. Non si potrebbe mai tornare indietro a quella che è la luce, ok, divina, chiamiamola così proprio per comodità. Poi, eh, è blasfemo dire così anche nei confronti di Tolkien, che era un autore estremamente laico, anche se cattolico, eh, perché non c'è niente dire di cattolico all'interno del leggendarium. Però ecco, appunto, il, la, la luce è una, è un materiale corruttibile, estremamente corruttibile, inquinato dall'ombra, inquinato dal, dal male, dalle tenebre, ed è come se, appunto, non si tornasse mai indietro. E questa cosa è estremamente connessa a, eh, come dicevo, al, al tempo, alla freccia del tempo, alla storia, no? In un certo senso gli elfi soffrono di questa cosa qua. Soffrono di, eh, appunto, eh, un, un continuo susseguirsi, appunto, di, eh, ecco, insomma, sì, di, di cicli fino a che non arriverà la fine dell'esistenza. Loro staranno nella terra di mezzo fino alla fine proprio dell'esistenza stessa, eh, del, del mondo di Arda. Ecco, questo, eh, appunto, è estremamente intrinseco, no? All'interno della, e diciamo che non è proprio il tessuto, non è l'architettura stabile di tutto il leggendarium. E nel Signore degli Anelli è un elemento specifico, appunto, di tantissimi personaggi. Sono, sono tutti tentati dall'anello, dall'unico anello, tutti. Fatta eccezione, appunto, per un paio di situazioni, un caso in particolare quale Tom Bombadil. Ma per il resto sono tutti tentati anche, anche, eh, la dama bianca, anche Galadriel. Solo Mary e Pippi non sono mai trontati dall'anello. Questo lo dobbiamo dire. Sembrano al sicuro da ogni possibile tentazione, quei due. Non lo so. E sono un unicum da studiare da questo punto di vista. Però è vero, come dicevi tu, anzi, più potente sei, più, cioè, più importanza hai, più l'anello ti tenta. L'anello tenta i piccoli, ma tenta soprattutto i grandi, perché ha a che fare col potere. Quindi, quindi, sì, ci sta. Eh, poi su Galadriel, più, posso dire, su luce e tenebre. Beh, adesso ci arriviamo. Eh, volevo leggere dei commenti. Eh, beh, intanto saluto questo Filippo Ponte. Eh, buonasera dalla Spagna. Grazie di seguirci dalla Spagna. Eh, poi saluto la nostra Eli, eh, Egio Vistori. Eh, passate a seguire il suo canale. Sono spesso ospite da lei. Ci troveremo anche questa settimana per parlare di Tolkien e la Grande Guerra. Quindi andate su Egio Vistori. E, e poi a questo proposito voglio salutare anche Caliburn, che spesso è ospite anche lì e sono stato ospite anche da lui. Quindi, grazie di essere passato, ecco, anche tu. Ehm, poi il nostro Oscuro Signore ci ricorda che personaggi che hanno a che fare con l'ombra ci sono anche Meglin e Feanor. Eh, beh, sì, Meglin poi non ne parliamo. Nel nome già contiene tutto, no? Perché è il figlio del crepuscolo. Sguardo tagliente o figlio del crepuscolo. Lomion, come l'ha chiamato la madre. Spesso la madre degli Elfi c'è zecca. Capisce il tuo, il tuo stato d'animo, il stato personalità meglio di tutti gli altri. E poi, eh, un altro personaggio importante è Ungoliant, come ci dice la nostra intessa. Ungoliant è talmente vorace da creare oscurità essa stessa. La vomitava in ogni parte. Sì, la cosa bellissima di Ungoliant è che lei è una creatura dell'ombra, totalmente nera, proprio, priva di luce, che però è attratta dalla luce e la divora. E quando la divora produce, eh, tenebra. Ma poi non è semplicemente tenebra, perché Tolkien la definisce come unlit, unlight, cioè è una privazione di luce. Ancora peggio, perché in quel momento ti accorgi di cosa non c'è più. Quindi è un personaggio incredibile, anche Ungoliant, che è il nero, è un buco nero che cerca la luce per papparselo, in pratica. Dopo lo rivomita fuori in una maniera terribile. Eh, anche questo è inserito perfettamente all'interno di questo discorso della, della polarità e di personaggi che sono attratti dalla, dalla luce, personaggi oscuri. Ecco, questo lo vediamo per esempio, siccome il nostro oscuro ha citato Maglin, lo vediamo nel caso di Eol, del padre di Maglin, cioè un personaggio che è chiamato l'elfo oscuro, non a caso, che è attratto dalla moglie Reddell, che è la bianca signora dei Noldor. Eh, cioè è il proprio il nero che è attratto dal bianco e cerca di possedere la luce, di tenersela, esattamente come tutti i personaggi che cercano di possedere i Silmaril, che contengono la luce di, del, degli alberi di Valinor. Anche in questo caso c'è una tenebra che cerca di impadronirsi nel momento in cui anche dei personaggi cosiddetti buoni cercano di metterci le mani sopra, piombano all'interno di questa tenebra da cui non riescono più a uscire. Tra l'altro tu hai detto una cosa molto bella, non si può più tornare indietro dalla, dalla luce, cioè non si può restaurare la luce iniziale. Questa cosa è molto profonda e vera, questa che hai detto, perché molto spesso le persone dicono, ah ma allora se, Ungoliant ha ucciso gli alberi con Melkor, allora perché non hanno ricreato degli altri alberi? Perché non si può, perché tutte le creazioni sono uniche e irripetibili, come i Silmaril, non puoi fare altri Silmaril, così come i luminari, le lampade, le lampade che sorgono ai due estremi della terra e che Melkor abbatte. I Valar non possono ricostruirle, quando vengono distrutte, infatti i Valar costruiscono un'altra cosa, costruiscono gli alberi e quando vengono distrutti gli alberi, uccisi, i Valar costruiscono altre luminarie che sono il Sole e la Luna, che curiosamente non sono neanche il frutto di questa luce perfetta, di questa luce piena, perché già gli alberi erano una luce soffusa e ridotta rispetto a quella delle lampade, ma nel caso del Sole e della Luna non è neanche più la luce vera originaria, perché è una luce che è stata già corrotta dal male. Questa cosa è interessantissima, quindi la luce originaria non c'è più nel mondo, ma c'è solo e unicamente nei Silmaril, e uno dei Silmaril è nel cielo, quindi frammenti della luce originaria c'è esattamente solo nel cielo, anche perché le stelle le ha costruite Varda all'inizio dei tempi, quindi è del tutto logico che la luce di Varda sia ancora inserita nella volta stellata, tanto che è bellissima con la frase di Tauriel nell'Hobbit che dice che le stelle rappresentano memoria, perché è la memoria della luce di Valinor, la luce di una volta, poi che fa delle riflessioni pazzesche su questa cosa della luce, soprattutto nel Silmaril, poi ovviamente anche nel Signore degli Anelli, ma è nel Silmaril che ci sono tutte queste dinamiche. Il nostro Vincenzo Beretta dice, non dimentichiamo che uno dei cruci principali è stato creato da Tolkien, allora chi è Tolkien nella creazione? Questa è una bella domanda, io posso dire solo una cosa, ricordati di quello che scrive Tolkien in una lettera, che Eru non sapeva come i personaggi avrebbero risposto a determinate suggestioni e come comportarsi all'interno della sua stessa storia, cioè Eru stabilisce i fatti ma poi le persone si comportano in maniera indipendente e Tolkien scrive come l'autore di un romanzo che non sa come si comporteranno i suoi personaggi all'interno della sua stessa storia, quindi noi dobbiamo prendere questa costruzione di universo anche in una maniera narrativa, cioè è ovvio che Tolkien mette un po' di sé anche in Eru, perché è come lui che non sa letteralmente come andranno avanti le cose, ricordiamoci cosa diceva Tolkien di Faramir, che diceva che ha incontrato questo personaggio nei boschi dell'Ittilian ma poi non sapeva neanche lui come avrebbe continuato la storia, gli si è letteralmente mostrato sotto gli occhi e quindi secondo me c'è questo gioco, poi non dimentichiamo che Tolkien si mette come narratore personaggio all'interno della vicenda, ma non nel senso che è lì presente, ma perché lui stesso fa parlare i personaggi e lui non ha la certezza assoluta di quello che succede. Quando parla della filosofia elfica, lui si immedesima in quello che dicono gli elfi, però non c'è la prova provata che quello che dicono gli elfi sia vero, infatti la filosofia elfica funziona fino a un certo punto, sono cose metanarrative molto interessanti anche queste. E Fabio invece ci dice, sempre a proposito di questa cosa della creazione, veramente la fiamma imperitura deriva da Eru, ma alla creazione musica partecipano anche i Valar e Merkor, non è distinto ma soprattutto nella musica è già mescolato il male, è verissimo, tanto che la creazione di Tolkien è diversa da quella che leggiamo nella Bibbia, ricordiamo che nella Bibbia Dio arriva e dice sia la luce, la luce fu, e poi dice siano le acque sopra i cieli, diverse sparate dalle acque che sono sopra i cieli, siano gli uccelli del cielo e gli animali del mare e ogni volta che fa una cosa vide che era cosa buona, poi arriva e fu sera fu mattina, arriva la fine e crea l'uomo e vide che era cosa molto buona. Dio nella Bibbia crea il mondo perfetto, in Tolkien non è così perché la visione dei Valar, che poi Eru ha in vera battendo le mani dicendo Ea, cioè il mondo così come deve essere, così è, sia viva, in realtà ha all'interno già la sfumatura del male. Quella visione che viene inverata, realizzata, è già l'effetto della stonatura di Melkor che ha cantato col controcorro all'interno di quella grande visione. Quindi è una differenza fondamentale questa. Sempre l'ombra intacca la luce in Tolkien, questo è il punto principale. Quindi esiste la luce piena, però poi l'ombra interviene, la modifica per sempre. È vero quello che diceva Andrea, che la luce originale non ci sarà più progressivamente, si perde, ed è solo un ricordo, che poi per esempio è costituito dalle stelle. E per gli Elfi è così. Magari gli uomini ci fanno meno caso, però insomma gli Elfi questa cosa se la ricordano. Quindi, sempre per tornare all'interno del discorso che facevi, i personaggi sono anche loro modellati dalle interazioni che hanno con le tenebre. Allora, tu quali personaggi hai preso a riferimento nel Silmarillion, nel Signore degli Anelli, non lo so, anche nell'Hobbit visto che l'hai citato. Perché effettivamente, come hai detto tu, i personaggi di Tolkien sono molto grigi. Cioè, tutti dicono che in realtà è Martin, il trono di spade, a creare dei personaggi grigi, e Tolkien invece è Manicheo. Invece non è vero. Basta leggere il Silmarillion per vedere personaggi che all'inizio erano luminosi e poi progressivamente cadono nell'ombra sempre di più e fanno anche una pessima fine. Quindi, ed è la stessa cosa che poi vediamo anche nel Signore degli Anelli. Ci sono dei personaggi che cedono, cioè c'è poco da fare. Denethor. Denethor non è uno che si riscatta. Secondo me è il personaggio forse più negativo del Signore degli Anelli. Saruman. Non parliamo di Saruman. Un altro che progressivamente, visto che abbiamo parlato dei Maier, ha proprio una parabola discendente che lo porta a rifiutare addirittura la grazia più volte. Gliela offrono ripetutamente, che almeno tre volte lui dice sempre di no. Quindi, che personaggi hai analizzato nella tua ricerca? Allora, inizialmente diciamo che abbiamo preso in analisi, ho preso in analisi appunto quelli che sono i classici cattivi, i classici villain. Su Melkor l'abbiamo detto. Lui è uno… ecco, premetto una cosa appunto molto interessante quello che avete detto prima, perché appunto la corruzione all'interno della terra di mezzo avviene quasi esclusivamente sempre perché di mezzo c'è il potere. Perché un personaggio si arroga il diritto o comunque vuole avere il potere. E… o è geloso, ecco, insomma, delle creazioni degli altri, diciamo. Mettiamo il caso di Melkor, no? Lui gli prudevano le mani perché voleva fare cose. Ecco, l'abbetto proprio giù banalmente. E proprio da lì nasce un po' il suo… poi quella che è diventato il suo personaggio, ovvero di per sé il male incarnato. Ok? Quindi c'è sempre di mezzo il potere, c'è sempre di mezzo anche nel caso di Feanor, che comunque è un personaggio estremamente ambiguo. Anche se so che all'interno degli appassionati di Tolkien c'è sempre un po' di dibattito su se Feanor è buono, Feanor è il cattivo. In realtà chi è Feanor? In realtà è veramente… è il cattivo proprio… anche più cattivo di Melkor addirittura alle volte. No, ecco, semplicemente nel caso anche di Feanor vediamo un personaggio che cerca sempre di arrivare alla luce, ma tu la luce non la puoi andare a cercare. Tu la luce non puoi mai andare a prenderla e conquistarla né con la forza né tantomeno. Ecco. Quindi questo per fare una puntualizzazione. C'è sempre all'interno del Signore degli Anelli, anche nel Silmarillion, un personaggio che diventa cattivo proprio perché lui aspira a diventare, diciamo, il divino incarnato. Ecco, uno dei personaggi che ho analizzato è appunto Saruman, perché Saruman è un maia, è il maia più potente di tutti, diciamo, e lui cade letteralmente nell'ombra, perché inizialmente è uno dei personaggi chiavi per combattere Sauron, poi però appunto viene tentato al punto tale che c'è quell'episodio che avviene con Gandalf, dove Gandalf, ci dice Tolkien, nota che appunto, quando appunto Saruman rivela a tutti gli effetti che lui sta dalla parte di Sauron e propone anzi a Gandalf di unirsi perché insieme avrebbero fatto grandi cose, i loro poteri, il potere insomma che avevano loro non l'aveva nessun altro. Ok, ecco, arrivo al punto. In quel frangente, dice Tolkien, Gandalf ha notato appunto che il mantello di Gandalf e scusami di Saruman non era più bianco ma era multicolore e glielo chiede anche, gli chiede, ma tu sei, appunto, sei Saruman il bianco, cioè nel senso non puoi, non puoi pretendere, ecco, di prenderti tutte queste, diciamo, responsabilità, andare dalla parte di Sauron, pretendere di sconfiggere Sauron grazie all'anello e quant'altro. Ecco, in quel caso Saruman gli risponde, io Saruman il bianco, io sono Saruman il multicolore, molto meglio, molto meglio il, appunto, essere, diciamo, quella persona, quel personaggio che prende in mano il proprio destino e lo controlla. Ok? E poi da lì, appunto, Saruman diventa di per sé il capo della macchina, dell'ingegno, del marchingegno, di tutte cose che ovviamente Tolkien detestava, diciamo, pensava che fossero, anche all'interno del mondo primario, la fonte di corruzione dell'epoca contemporanea. Ok? Quindi Saruman è principalmente il personaggio che ho preso in analisi proprio per via di tutti i passaggi che Tolkien ha inserito, poi appunto farà una bruttissima fine, come hai ricordato anche te, addirittura poi sposterà i suoi, cioè sconfitto una volta a Isengard, non è che si arrende, lui fucce, va alla Contea e fa la stessa identica cosa, però su scala ridotta. Quindi cerca di controllare un intero popolo attraverso appunto i suoi marchingegni, tra l'altro costruendo case nuove, appunto, diciamo, violando e violando appunto quella che era la salubrità del, diciamo, il contesto idilliaco che era la Contea, che era rimasto intoccato, ecco, in parte. Quindi questo è uno dei personaggi, poi se ne possono analizzare tantissimi altri. Sai che Saruman, oggi, una certa critica interpretativa, molto basica, quelli che fanno sempre il copia uno a uno a seconda di quello che hanno sotto il naso, dicono che siccome Saruman è multicolore, allora è arcobaleno LGBT. No, queste sono le grandi critiche che si fanno. Ma in realtà non hanno letto il titolo, il testo, ovviamente, perché Saruman dice che il bianco si può pitturare, no? Si può mettere il colore che vuoi. E il fatto che sia multicolore si sposa perfettamente con le sue posizioni, cioè quello del politico opportunista furbacchione. Cioè lui cavalca qualsiasi ombra e pensa di poterlo fare e che la sfanghi sempre. Questa è la sua grande illusione. Ma Gandalf dice che le cose non stanno così, perché non ce la puoi fare sempre. Ma Saruman ha questa capacità incredibile del politico, per cui ha veramente un fascino incredibile. Perché non solo si adatta alla situazione, ma parla, la sua magia fa sì che il sua voce si vada a parlare all'interlocutore esattamente secondo la lingua del suo interlocutore, a seconda di quello che il suo interlocutore vuole. Lo vediamo quando tenta tutti gli altri, quando lo prendono prigioniero. E tutti sembrano, pensano che sia la persona più intelligente del mondo, assennata, saggia. Perché lui vuole effettivamente apparire così, no? E la cosa che mi ha colpito moltissimo, e che secondo me è un altro aspetto molto poco considerato, è che lui frega le persone facendo dei ragionamenti politici ed economici completamente diversi, e che ne fanno un personaggio assolutamente moderno e diastorico. Cosa voglio dire? Che quando Saruman soggioga i Ruimim, cosa fa? Si trova all'interno di una società alto medievale, germanica. Quindi corrompe il Grima, che è il consigliere del re, perché sa che tanto la corte, nel momento in cui corrompi uno che detene il potere, alla fine corrompi tutti. Ma quando ha a che fare con la Contea, lui non ha mica il consigliere da corrompere, perché gli obiettori non hanno un re, non si sa bene chi comandi, e quindi non c'è neanche un consigliere, sono fondamentalmente una comunità abbastanza anarchica da questo punto di vista, o autarchica, non si sa bene cosa sia la Contea dal punto di vista politico. E com'è che li frega? Li frega con l'economia. È falso dire che è un'allegoria del regime comunista o del socialismo reale. Perché in realtà, se andiamo a leggere effettivamente che cosa viene scritto nel Signore degli Anelli, quando frega Lotto Sackville Baggins e comincia a commerciare con lui, su cos'è che fa affidamento Saruman? Sulla fame di accumulazione che hanno gli Hobbit, utilizza quella per fregarli. Crea uno che diventa una specie di monopolista, gli fa comprare sempre più terreni, finché alla fine non gli cade direttamente tra le braccia e manda i suoi sgherri. Quindi è un cattivo assolutamente politico, moderno, che riesce a sfruttare tutte le forme di politica e tutte le forme di economia ai suoi scopi. E guardate che non è un caso che Tolkien scriva nelle sue lettere che il sarumanismo, lo spirito di Isengard, è quello più diffuso nel mondo di oggi, non è mica Mordor. Saruman cerca di fare una piccola Mordor perché il male ha sempre la stessa faccia, dice Tolkien. Però allo stesso tempo quel modello lì è quello di Saruman, quello che c'è anche nel nostro mondo, che distrugge gli alberi, che manda gli orchi a distruggere tutto, che pensa di poter comandare gli ade e di utilizzare qualsiasi cosa perché i propri obiettivi sono sempre buoni, ordine, sapienza, conoscenza, tutte cose che dice Agandalf, siamo noi i saggi che dobbiamo organizzarci e dobbiamo tenerli sempre buoni, perché siamo noi che diciamo che sono buoni e tutti gli altri poi ci devono ascoltare. Ce lo diamo con Sauron e poi alla bisogna ci sganciamo e ne facciamo un'altra. Quindi è un personaggio su cui poi questo discorso della luce va a calarsi perfettamente perché c'è un c'è un retroterra incredibile, questo è un Maia, cioè questo è il bello, è un'intelligenza angelica assolutamente deviata da questo punto di vista e tra l'altro ha tutti delle intenzioni buone, perché comunque Saruman io sono convinto che molti di noi direbbero che ha ragione, cioè è pieno anche da noi di gente che dice abbiamo ragione, noi sfruttiamo la situazione a nostro vantaggio perché così riusciamo ad arrivare a un determinato scopo, quindi no no basta, questo è una parentesi. No no no, ci sta, no, perché penso che questa cosa sia delegare anche a Feanor, no, molti giustificano Feanor probabilmente per questa cosa, no, lui ha fatto la cosa giusta, la fine tutto sommato, cioè però il fatto è che Tolkien non la pensava così, Tolkien pensava che comunque nel senso il fine non giustifica i mezzi, no, detta banalmente. E quindi diciamo che appunto ci sono questi tipo di personaggi che poi in realtà viceversa al positivo, vedi Gandalf, non sono tentati dall'anello, non sono tentati da utilizzare l'anello per sconfiggere Mordor, quindi utilizzare il male stesso per sconfiggere il male, una cosa abbastanza contradditoria e proprio per questo poi lui gli viene data una seconda opportunità, lui ritorna letteralmente, risuscita, ok, diventa Gandalf il bianco tra l'altro. Intanto salutiamo Enzo che è venuto anche lui a salutarci, quindi benvenuto. Prego, prego. E poi invece per fare un esempio più da Silmarillion, diciamo, la questione dell'ombra, che un po' si collega anche a questo fatto che hai raccontato tu Paolo, appunto riguardo alla politica, no, a come ci influenza. Una cosa che succede nel Silmarillion, ad esempio, è che appunto ci sono, c'è Melkor, cioè l'ombra di, o meglio, l'ombra di Melkor che ha neppiato la luce dei Valarra, in un certo senso, no, perché ci sono i Quendi che proprio nelle prime fasi della Terra di Mezzo, quando i Quendi erano ancora una tribù, possiamo dire, c'erano i Quendi che quando Orome in Groppa Nahar, al cavallo Nahar, no, veniva in visita ai Quendi, ecco, loro lo scambiavano per qualcosa di tenebroso, per qualcosa di, che appunto era una creatura misteriosa e quindi che faceva paura. Cioè, alla fine, l'ombra, un'altra cosa che fa Tolkien e che ci dice che spesso e volentieri l'ombra è la paura stessa di qualcosa che in realtà è innocuo e che fa parte del corso della vita, no? Come nel caso dei Quendi che scambiavano Orome, ok, il suo loro protettore, diciamo, in un certo senso, per qualcosa di tenebroso. E la stessa cosa vale per gli uomini con la morte, perché appunto il dono della morte è, diciamo, scambiato per qualcosa di terribile, perché non si conosce, ok, quello che avviene dopo la morte per gli uomini. Gli Elfi tranquilli, sono immortali, poi vanno a Valinor, insomma, gli uomini guardavano gli Elfi appunto proprio per questo come se fossero, come se avessero vinto la lotteria, mentre loro no, perché io allora, io uomo, devo morire come uno stupido all'età di 80-90 anni, che poi dopo la vita degli uomini è un pochino più lunga all'interno del leggendario, però ecco, per intenderci... Anúmenor. Anúmenor, anúmenor, specifichiamo, sì, 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 specificiamo Anúmenor. Perché insomma io devo morire quando non so cosa c'è dopo? Ecco, l'ombra è anche questo, la paura che viene inseminata all'interno appunto della mente, della coscienza collettiva dei popoli. Sai che prima citavi la storia della luce di cui non ci si può impadronire. Beh, io ho una mia teoria, in realtà c'è un modo per possedere la luce, possedere, per metterci le mani sopra, è che è offerta da Beren e Luthien, cioè sono gli unici personaggi che riescono a recuperare un Silmaril. Non ce la fa nessuno, non ce la fa Ferna, non ce la fa Fingolfing, non ce la fa nessuno. Ce la fanno loro due con Luthien che stende Morgoth e Beren che prende un Silmaril e non si brucia la mano. Ricordiamo che chi invece vuole possedere un Silmaril per sé si brucia la mano. Questa cosa è notevole, ce la dice lunga, cioè è possibile mettere le mani sulla luce solo se non la vuoi tenere per te. La luce va fatta brillare. Non voglio dire che sia un riferimento evangelico della luce che va messa sopra il moggio e non sotto il moggio perché deve illuminare come la città sopra il monte tutti, ma secondo me c'è comunque un riferimento al finale della storia dei Silmaril. Il fatto che l'unico Silmaril rimasto venga messo nella volta celeste indica che il Silmaril deve brillare. La luce deve essere condivisa, deve essere offerta a tutti. Nessuno la deve possedere per sé. Questa cosa mette molto a nudo anche le aspirazioni invece dei personaggi perché nel momento in cui invece vuoi la luce per te non puoi fare altro che chiamarti la maledizione, quella che viene scagliata da Mandos. E a questo proposito voglio leggere cosa ci dice Vincenzo Beretta che dice Fenor parte per combattere Melkor e i Valar gettano la sfiga su di lui. Per me Melkor non ci credeva. Ma sai non è che gettano la sfiga su di lui. Lì i Valar dicono tu sei libero di andarci. Noi ti abbiamo avvisato. Guarda che ti vai a smaltare. Vai. Adesso noi te l'abbiamo detto in tutti i modi. Vedrai cosa succederà. E quindi quella che viene lanciata da Mandos non è una vera e propria maledizione. Perché ricordiamo il doom di Mandos o profezia. È una profezia. Ma il doom è una sentenza e anche il destino. Cioè c'è tutto dentro a questa parola. Quindi non fa altro che fotografare una situazione che succederà. Cioè nella ribellione di Fenor è comunque presente la fine che dovranno fare tutti in holdo. Cioè tornare indietro. Per forza. Con tutte le sofferenze che dovranno vivere perché non potranno mettere di nuovo le mani sui Silmaril. Quindi è una costruzione molto complessa quella del recupero dei Silmaril. Che però possono venire recuperati solo in questa chiave di amore per darli agli altri. Perché sempre in Tolkien c'è l'altruismo alla base. Visto che abbiamo appena celebrato il Tolkien Reading Day che si chiamava Servizio e Sacrificio è stato uno dei più belli perché ha posto un po' il senso completo della narrativa tolkieniana. Cioè che tutto deve essere fatto nell'ottica della tutela degli altri, della responsabilità e del servizio nei confronti degli altri popoli, degli altri personaggi. E questo implica anche il sacrificio. Cosa che i personaggi ovviamente negativi non vogliono proprio fare. Perché quello di Fenor non è un sacrificio. Cioè è un sacrificio a se stesso. Ecco. Solo al suo individualismo, al suo brama di possesso. Non è un sacrificio fatto per la tutela degli altri. Basta vedere come ha trattato i figli. Nel momento in cui capisce che non c'è niente da fare, vede le rette di Tango Rodrim, capisce che gli Efe non potranno mai farcela e vincola i figli ancora al mantenimento della promessa. Pessima genitorialità, mi verrebbe da dire. Quindi, e poi hai studiato anche Galadriel, per caso, nella tua analisi. Sì, sì, in parte sì, perché appunto c'è quel, c'è quel passo che poi tra l'altro secondo me è stato trasposto magnificamente da Peter Jackson, dove appunto, cioè Frodo vuole dare l'anello a Galadriel. Perché dice, ma scusami, tu sei potente. Cioè, Frodo, tra l'altro, tenta in tutti i modi dare sto cavolo di anello. E voglugnarlo a qualcuno, no? Eh sì, perché lui comunque è piccolo, impotente, si sente impotente, no? Ok? Ecco, c'è appunto la famosissima scena ripresa anche nel film, in cui Frodo vuole dare l'anello a Galadriel e Galadriel non è che lo rifiuta, insomma, in maniera, diciamo, anche decisa, ok? Con chiarezza e con decisione, no? Lei rimane anche spiazzata di fronte all'offerta. Gli dice a Frodo, ma tu mi stai offrendo l'unico anello, te ne rendi conto, ok? Se io accettassi, ok, lo utilizzerei per cose giuste, perché comunque lei è Galadriel, la dama bianca o alt'altro, però farebbe soltanto del male. Il risultato sarebbe quello. Io sarei una regina terribile. Ok? Citavo il film di Peter Jackson perché in quella specifica scena Peter Jackson ha deciso, che secondo me è più efficace del libro in questo caso, ha deciso proprio di invertire i colori della pellicola, ok? Quando Galadriel pronuncia queste parole per dare l'effetto contrario. In quel caso proprio la luce diventa l'ombra e viceversa, no? Lei diventa il suo manto bianco, splendido, lucente, che brilla come se fosse di luce propria, diventa al contrario uno straccio logoro, oscuro, tenebroso. Si proprio indossa la tenebra quando pronuncia la frase io sarò una regina terribile, governerei, adesso vado a memoria, chiaramente non è proprio così. Tutti mi amerebbero disperandosi. Esatto, esatto. Tutti mi amerebbero disperandosi. Sarebbe quindi la fine praticamente della terra di mezzo, no? La quest, diciamo per utilizzare un termine tipicamente fantasy, la quest non, cioè quella di gettare l'anello all'interno del monte fatto, non si conclude e di conseguenza il mondo va in rovina. Perché appunto anche dal, come dicevi tu, come giustamente dicevi tu, anche dall'animo più buono, più gentile, ok? Se vieni corrotto dal male, se vieni corrotto dall'ombra, in questo caso l'unico anello, che è un personaggio a tutti gli effetti, ma di quello magari ne riparleremo, appunto vieni corrotto. E in questo caso, come Gandalf, anche Galadriel, tenterebbe di fare del bene, ma attraverso il male. Cercherebbe di sconfiggere il male, ok? Con egoismo, sostanzialmente. Governerebbe come se fosse una regina, una regina a cui tutti devono sottostare. E quindi Galadriel ha questa particolarità, ah sì, che poi ha superato la sfida, appunto in quel caso, appunto, la sua sfida è quella di rifiutare l'anello, ok? E ritorna a essere Galadriel, la Galadriel che conosciamo, la Galadriel pura. Allora, stavo riflettendo mentre dicevi queste cose, che questo discorso che facevi si collega perfettamente a quello che viene detto a proposito della famosa fiala di Galadriel, perché, guarda caso, Galadriel è il personaggio che fa parte del Bosco d'Oro, ha nel nome il termine luto Galad, ed ha a Frodo un oggetto, la fiala, che Verlin Flieger ha detto essere il contraltare dell'anello, perché mentre l'anello lo metti, ti avvolge, ti chiude nel suo cerchio, mentre la fiala la tieni lì, bella, che ti guida con la sua luce. E cosa c'è nella fiala di Galadriel? C'è la luce di Rendil, cioè il Silmaril che è rimasto nel cielo. Come c'è finito? Questo non lo sappiamo, ovviamente, perché non si tratta di fare tecnologia o spiegazioni scientifiche. Però questa cosa è molto importante, perché comunque connette attraverso la luce la vicenda presente alla vicenda passata, è proprio un oggetto che unisce i due mondi, il mondo primario, il mondo secondario, il mondo del passato, dei giorni antichi del Silmarillion, con la tenebra attuale, e sarà quell'oggetto a far sì che poi Frodo, cioè Frodo e Sam riescano a far fronte al momento di maggiore tenebra all'interno del romanzo. E quindi poi questo ci porta, ovviamente, a parlare anche di questo momento che è l'attraversamento del passo di Chiritungol, dove c'è Shelob, un apparente di un Golliant, una che appunto aveva la non luce, e anche Shelob è un mostro terrificante, ctonio, dell'oscurità, che vive in una buca e non sopporta la luce, e poi ha a che fare anche con Gollum, perché volente o nolente, nella tana di Shelob ce li ha portati Gollum. Allora, cosa dici di questi due personaggi, di questo momento cardine, di questo scontro tra luce e ombra nel passo di Chiritungol, che tra l'altro il film di Peter Jackson è reso benissimo da questo punto di vista? Assolutamente sì, infatti io nella tesi analizzo, non che Tolkien, non me ne voglia male Tolkien, ma io in quel caso ho analizzato proprio la scena del film, delle scale di Chiritungol e poi della tana di Shelob, quelle del film, non del libro, ma proprio perché anche in questo caso Peter Jackson ha fatto un lavoro magistrale e, guarda caso, anche perfetto per spiegare questa, diciamo, questa tematica. Beh, allora, Gollum, diciamo che è la rappresentazione, mi viene da dire, futura di quello che potrebbe succedere se Frodo decidessi di tenersi l'anello, perché appunto anche lui ha rubato, ha rubato, ricordiamocelo, ha rubato l'anello ed è corrotto ma in tutte le sue, in tutti i suoi nervi, in tutte le, in tutto ogni centimetro della sua pelle è corrotto, questa cosa la si vede perfettamente anche nella descrizione, come un essere rachitico, pallido, gobbo, insomma l'anello è diventato qualcosa che per lui è vitale. E da lì, e da lì tra l'altro c'è questa bipolarità tra due personaggi che vediamo molto bene, ovvero Gollum e Sméagol sostanzialmente, dove sostanzialmente tra le altre cose il personaggio di Gollum ci parla proprio, cioè ci sono delle scene dove appunto lui, anche qui Peter Jackson ha fatto un lavoro incredibile, dove appunto lui fa venire fuori le due personalità e le fa parlare. Ecco, Gollum è la parte malvagia, estremamente perversa, come dire, mentre Sméagol è invece la parte però, attenzione, non la parte più gentile, la parte buona, non stiamo parlando appunto in questo caso di luce e ombra, stiamo parlando di una parte comunque pallida e impallidita, incerta, che è un po' come l'incertezza che aveva Gandalf in certi casi, Gandalf in grigio ovviamente, in certe situazioni dove appunto non riusciva a trovare delle risposte, guarda caso anche il caso appunto dell'attraversamento delle mignele di Moria, no? Quindi Gollum di per sé non è mai un personaggio positivo, anche se in certi casi potrebbe farci addirittura pena. Io dico sempre, ok, non per fare chiaramente il professorone o quant'altro, ma io dico sempre che c'è un po' di Gollum in tutti noi, perché comunque è un personaggio che rappresenta la tentazione fatta persona, fatta proprio a personaggio. è una figura impallidita, letteralmente l'ombra di se stesso di 500 anni prima, ok, o quanti anni ha. Quindi non che prima appunto fosse l'animo più buono del mondo, perché come ho detto prima, lo sappiamo tutti, lui ha rubato l'anello perché invece l'aveva trovato il suo compare, no? E lui l'ha ucciso per avere l'anello, perché ne è stato subito tentato, cioè in questi casi, sebbene di fronte a molti personaggi c'è la tentazione di fronte all'unico anello, davanti a Gollum non c'è proprio stato. Cioè lui l'ha voluto subito, immediatamente, è la sua ragione di vita, e questo l'ha reso di per sé, o come l'ha reso Tolkien, un essere privo di luce, che è proprio dove non esiste proprio una fiamma dentro di lui, come se non ci fosse il calore della vita, mi verrebbe da dire. E poi, vabbè, abbiamo Shelob, abbiamo la Tana di Shelob, abbiamo Shelob che è un capitolo fondamentale, proprio anche per capire la dinamicità che c'è appunto tra la luce e l'ombra in Tolkien, perché in quel caso appunto Frodo estrae la fiala, e da lì non solo, non solo fa del male a Shelob, perché poi lo scopo è quello. Ma illumina, mi verrebbe da dire, illumina il sentiero, il sentiero che lui aveva perso, ok? Lui è, in un certo senso, gli ha dato una botta di vita, ok? Gli ha dato proprio la carica per continuare, e penso che appunto in questo caso Tolkien ci voglia dire che, insomma, spesso e volentieri noi ci troviamo in situazioni, soprattutto i personaggi all'interno del mondo fantastico, si trovano in situazioni in cui mettono in dubbio anche se stessi, però appunto se c'è luce, se abbiamo anche, nel caso del libro, adesso mi devi però aiutare perché non ricordo perfettamente, nel caso del libro appunto, se non sbaglio ci entra anche Sam nella tana di Shelob, o rimane fuori? Si trova a combattere con Gollum, mentre Frodo viene... Mentre Frodo, esatto, perché appunto nel film hanno introdotto questa, diciamo, che è fondamentale, proprio nella legge della sceneggiatura cinematografica, quella di mettere in collisione due amici, per dare pathos, per dare suspense, e poi anche per dare un significato un po' alla sfida di Frodo, perché Frodo in quel momento si trova completamente lasciato a se stesso, cioè senza Sam non sarebbe nessuno, non sarebbe niente, non ce la farebbe mai. Ecco, in questo caso interviene la luce, la fiala di Galadriel appunto, come hai ricordato te. E questo è fondamentale, Shelob viene distrutta grazie appunto, anche grazie appunto alla fiala e... beh vabbè, però Shelob, ecco insomma, come hai ricordato te, è uno dei tanti figli di... una delle tante figlie di Ungoliant e lì siamo appunto all'oscurità più oscura che c'è. Ecco, il cattivo perfetto, cattivo perfetto. Dito che hai citato Smigol e Gollum, c'è effettivamente il commento di Lorenzo Toselli, l'unico anello è una droga. Questa cosa la dice Tom Schippie, effettivamente l'anello porta a una dipendenza proprio di tipo fisico. Se non hai l'anello, non hai la tua dose e stai male. Però mi viene anche da dire che a proposito di questa divisione della personalità di Smigol e Gollum, che come hai detto te è assolutamente tragica, cioè pensare che Gollum sia un personaggio ironico è folle, perché in realtà è un personaggio assolutamente drammatico, tragico, che fa pena letteralmente, ma Bilbo non lo uccide perché gli fa pena quando potrebbe farlo. E quando Frodo dice, ah perché non l'ha ucciso Bilbo, saremmo risolti un sacco di problemi, Gandalf gli dice parli così perché non l'hai visto. Quando l'avrai visto capirai. Infatti lo vede e capisce anche lui perché poi c'è l'empatia nei confronti di chi prova il tuo stesso problema, che ha lo stesso fardello, l'anello ovviamente. Però questo fatto del ritrovamento dell'anello potrebbe essere anche letto come evento scatenante della dissociazione della sua personalità. Cioè lui ha sviluppato questa dissociazione, per cui ha queste due parti della personalità, che anche Bilbo ha due parti della personalità, però non ha avuto un evento che l'ha fatto deflagrare in questo modo, anzi arriva a conciliarle mentre Gollum non ce la fa mai e quindi Sméagol è la parte debole che viene vinta da quella cattiva che alla fine ha il sopravvento. Però la cosa interessante è che siccome Tolkien appunto non è manichero, a un certo punto sembrerebbe che Sméagol è in grado di convertirsi, di tornare in sé, di riacquistare la sua umanità, obicità perduta, tornare nel vecchio obbietto di una volta nel momento in cui vede l'amore tra i due, l'amore di amicizia tra Sam e Frodo e in quel momento è Sam a bloccare la sua trasformazione e lui si radicalizza e torna completamente nell'ombra. Non c'è più possibilità di redenzione dopo questo momento. Però è curioso perché in quel momento gli si spegne la luce che aveva sempre flebile negli occhi. Quindi la trasformazione, nel caso di Gollum, me è il ribaltamento di questa cosa. Perché di solito ha sempre questa luce con gli occhi a fanale nel buio e invece in quel momento gli si spegne la luce e lui riacquista la sua umanità, se possiamo dirla così. E poi mi venite a dire un'altra cosa. Ho parlato di questa fiala che indica il sentiero. Allora, questo mi offre l'occasione di collegarmi alla frase iniziale, che è quella di Amazon, che abbiamo visto nella serie, di bisogna toccare la luce per arrivare... no, toccare la tenebra per arrivare alla luce. Allora, questa frase c'è nelle opere di Tolkien, bisogna ammetterlo, c'è nella caduta di Gondolin, nel viaggio di Tuor, quando incontra i due emissari di Ulmo, Gelmir e Arminas. E gliela dicono loro, eh. Ma perché gliela dicono loro? La Flieger ha fatto questa analisi. E guardate che è verissima, se vedete proprio i testi. Perché sono gli elfi a mostrare la luce agli uomini. Questa frase non vale per gli elfi, non vale per Galadriel. Finrod che dice questa frase a Galadriel non ha senso, perché questa è una frase che è indirizzata agli uomini, per indicare il ruolo che gli elfi hanno nei confronti degli uomini. Voi prendete il Silmarillion. Gli uomini che fuggono dall'ombra, ancora una volta la parola ombra dell'est, perché se ne vanno dalle tenebre di Morgoth e seguono un loro istinto che hanno dentro ma non sanno neanche loro da dove arriva, li porta verso ovest ma non sanno dove vanno e incontrano Finrod che nel frattempo si sta spostando dall'ovest verso l'est perché i due popoli seguono queste rotte sempre. Gli elfi danno le spalle alla luce e vanno verso le tenebre, mentre gli uomini vanno verso la luce, verso l'occidente, cioè proprio all'opposto e incrociano i loro cammini, ma gli uomini non sanno minimamente dove stanno andando e neanche da dove vengono. E chi è che gli dice tutto, che gli spiega come stanno le cose? Finrod che gli dà una collocazione per mettersi, gli dà uno scenario, gli spiega chi sono, dove stanno andando, che luce hanno visto, gli spiega che ci sono gli alberi di Valinor, la luce dalla parte di là del mare, che curiosamente è la strada dove gli uomini non possono percorrere, perché gli uomini non possono andare a Valinor, ma sono costantemente attratti da questa luce, lo vedremo fino a Numenor, fino alla caduta di Numenor, sempre gli uomini guarderanno dall'altra parte del mare, mentre gli elfi ci arriveranno alla fine perché vogliono tornarci indietro, ma per lunghi secoli ci hanno dato le spalle. E questo torna anche nel caso di Tuor, che incontra questi due emissari, che gli mostrano la strada perché Tuor non sa dove andare, Tuor ha qualcosa dentro che gli dice parti vai, trova addirittura Ulmo che gli dice vai a Gondolin, ma lui non sa la strada e chi è che gliela indicano? I due elfi. E dopo gli elfi gli dicono basta noi non possiamo più venire, adesso vai tu, perché tu devi fare la strada, noi ti abbiamo solo fatto vedere dove andare. Quindi questo è il senso di questa frase, sono gli elfi a mostrare la via. E non è un caso che il Silmaril nel cielo resti lì, perché la luce di Erendil poi mostra la via a tutti sulla terra e sulla terra poi sono ovviamente la terra di mezzo sono rimasti gli uomini. Questo è il senso fondamentale. No, ci tenevo a fare questa precisazione perché secondo me dà un po' l'idea di come Tolkien concepisse anche la luce in relazione ai movimenti dei suoi popoli, che non sono mai casuali. Gli ha studiati la Flieger in schegge di luce, sperando che lo ripubblichino così. Tutti potrete leggere questa dinamica fondamentale alla base del Silmarillion. E poi volevo leggere e ringraziare Vincenzo Beretta per la donazione, che dice, i Silmaril non possono rappresentare il Tolkien scrittore professore che vuole ridonare agli altri la saggezza positiva accumulata nella vita, anche guarda caso attraverso creazioni uniche? Beh sì. E guarda, io posso dirti che questa domanda ha come risposta il concetto di subcreazione di Tolkien. Cioè, la subcreazione di Tolkien deve essere libera dalla brama del possesso, perché Tolkien per primo si rendeva conto del problema costituito dalla creazione, della subcreazione di qualcosa. Cioè, un Fenor che costruisce i Silmaril, dopo non li vuole dare a nessuno. Un Aule che costruisce i Nani, perché proprio li costruisce lui, li crea lui, Eru gli dice, ma perché hai fatto questo quando sapevi che non dovevi farlo? E perché vengono fatti sopravvivere i Nani? Perché Aule è umile e accetta di aver sbagliato. Questo è il senso fondamentale. Cioè, la subcreazione non deve essere fatta per se stesso, ma perché Aule voleva un popolo a cui insegnare qualcosa. Quindi anche la produzione narrativa di Tolkien è ovvio che era sua, ma lui stesso si rendeva conto del problema, che alla fine puoi considerarla un tuo tesoro geloso, è solo tuo, nessuno può metterci becco e ti fa diventare una specie di dio che dimentica, che perde di vista tutto il resto. Secondo me c'è una profonda riflessione metanarrativa da parte del Tolkien autore dietro questa cosa. Ed è ovvio che tutto questo viene veicolato attraverso la sua narrativa, quindi c'è metanarrativa, ma c'è anche una riflessione sulla condanna della brama del possesso del potere che c'è ovunque. Non è un caso che tutte le tre opere maggiori di Tolkien siano incentrate sulla condanna della brama del possesso di qualche cosa. Cioè Silmarillion, la brama del possesso dei Silmarillion, che portano sempre alla maledizione anche se sono degli oggetti puri, più puri del mondo. La Hobbit ha la condanna del cumulo del tesoro e del possesso dell'archengemma, il signore degli anelli e dell'anello. Quindi insomma mi pare che l'idea di base fosse sempre un po' quella. Ma ovviamente tutto questo è collegato al tema della subcreazione, perché l'uomo e gli effi sono dei subcreatori. E non è detto che sia un errore, perché Tolkien difendeva a spada tratta la sua subcreazione. Credeva che esistesse a livello secondario. Però ecco, ci sono anche delle problematiche, dei rischi a cui uno scrittore può andare incontro. E' questo che rende anche Tolkien un autore così interessante. Ma a questo punto passiamo alla seconda parte di questa serata e del lavoro che ha fatto Andrea e che riguarda invece la parte visiva, quella artistica, perché come ha detto Andrea lui ha studiato questo ambito in particolare e il tuo lavoro è partito da una considerazione. Cioè che Tolkien era il primo illustratore delle sue opere. Sappiamo che disegnava, faceva degli schizzi, dei bozzetti, delle vere e proprie illustrazioni, degli acquerelli, che tra l'altro sono finiti anche a corredare l'Hobbit, ma poi anche il Signore degli Anelli ha disegnato delle cose. E poi il Silmarillion, come dimenticare tutti gli schizzi fatti sugli stemmi dei casati elfici e varie cose così. Quindi come hai affrontato questo tema del Tolkien illustratore in relazione a questa tematica dell'ombra e della luce. Allora, sì, hai detto bene, Tolkien a tutti gli effetti non solo disegnava, ma lui come dire, scriveva le sue storie alle volte a partire dai disegni. Infatti, infatti, adesso prendo in esame un altro testo che è stato fondamentale per me, che è quello di Roberta Dosi, l'arte di Tolkien, l'arte in Tolkien, dove dice, la Tosi dice che appunto lui dipinse parlando e parlò dipingendo. Ok? Un modo per dire che appunto era una persona, era un artista a tutti gli effetti, come era anche uno scrittore. Sebbene lui, lui non riteneva così, perché con la sua solita umiltà quasi appunto mortificante, aveva scritto una lettera al suo editore, questa cosa la ricordo in una lettera, in particolare la 27, al suo editore Stanley Unwin, dove appunto gli ricordava, in merito allo Hobbit, che lui aveva mandato mappe, non solo il testo, ma anche le mappe, le illustrazioni da inserire all'interno del volume, però con una nota, ovvero, guarda, a me va bene se pubblicate le mie illustrazioni, ma non sono capace, che lo faccia qualcuno di bravo, perché io sono veramente incapace a disegnare, cosa in realtà non vera, perché Latosi passa in esame appunto varie illustrazioni che lui ha fatto, come quella Bagend, dove in realtà c'è anche uno studio quasi prospettico del tutto. Lui alle volte partiva disegnando, cioè la torre di Isengard, quella che poi dopo appunto noi vediamo descritta così perfettamente all'interno del Signore degli Anelli, lui è partito da uno schizzo che fece, immaginandosi la torre, anzi ci furono dei processi, prima la immaginava come se fosse una specie di torre di Babele, per esempio, no? E c'è appunto lo schizzo che effettivamente raffigura appunto una torre ad anelli concentrici che vanno a salire verso l'altro fino a andare alla punta, poi dopo è diventata quella con i pinnacoli a quattro, ok? Con questi quattro pinnacoli, una specie di torre di Ossidiana, di questa pietra lucente e nera che riflette la luce e quant'altro. Ecco, tu giustamente prima hai tirato in ballo la subcreazione che per Tolkien era importantissima. Lui scriveva scoprendo il romanzo e appunto tutti i testi che ha scritto. Lui scriveva scoprendo, l'abbiamo detto anche prima in merito a diversi personaggi, no? Tipo Faramir, lui se l'hai trovato lì, nell'Itilien, e poi non sa cosa, insomma, non se lo aspettava. Ma perché lui era, diciamo, questa è una cosa connessa anche un po' al suo lato da filologo, dove pensava, adesso non me ne vogliono i linguisti collegati, non sono un esperto, quindi dirò sicuramente delle vaccate, però appunto lui pensava da filologo di una certa corrente linguistica che le lingue si formavano, non è che le inventavano, l'essere umano non inventa le lingue, ok? È un processo che va avanti da secoli. E quindi, per tornare alla domanda iniziale, di base a... inseriva questa... cioè, insomma, ho analizzato appunto l'arte di Tolkien come un qualcosa che appunto è estremamente connesso, intrinsecamente connesso con appunto la sua scrittura, il suo procedimento, diciamo, da scrittore, al punto tale che le due cose in realtà si fondono. E questo è... diciamo, fa anche parte della cosa che dicevamo prima, ovvero che appunto non esiste la creazione, no? Non esiste la luce pura. Tolkien non... non si arroga il diritto, ok? Non di... di... appunto dire che io ho inventato la mia storia. Tu hai detto bene prima quando dicevi che appunto non riteneva che fosse un... un suo romanzo, ma perché proprio non lo pensava... lui pensava che il Signore degli Anelli, così come l'Hobbit e il Silmarillion erano sostanzialmente delle opere che appunto scriveva innanzitutto per diletto, perché poi come in molti video hai ricordato tu Paolo, lui era un fan innanzitutto del... di altre tante narrazioni epiche, come quelle legate alla... alla narrazione della mitologia norrena, al Cale Valafinnico, per fare solo due esempi, ok? Quindi lui era un fan che, diciamo, attingeva un po' di qua e di là, no? E si comportava come scrittore, non come un narratore onnisciente, ma bensì come una persona del nostro mondo che appunto scopriva una storia che forse è sempre stata celata sotto metri, metri di polvere, sotto il tempo. Cioè lui si è proprio, se non sbaglio lo ricordava anche in una lettera, lui trattava il Signore degli Anelli come se fosse, in generale il leggendario, come se fosse un libro che appunto aveva trovato in biblioteca di una storia antichissima, perché poi la Terra di Mezzo è reale, la Terra di Mezzo è vera, fa parte di una storia antichissima che lui... È solo tradotto, perché in realtà è tutto frutto di una trasmissione di racconti che sono stati trascritti poi da delle persone che sono entrate in suo possesso e lui le ha tradotte. Esatto, esattamente. Utilizzando le lingue del nostro mondo, a proposito del fatto che dicevi che lui non inventava, non credeva alle lingue inventate, lui pensava che l'uomo inventasse naturalmente le lingue, il problema è che lui sosteneva, perché lui stesso poi aveva cominciato a creare una lingua finta fin da quando era bambino. Il problema è che le lingue non possono essere create a tavolino e pretendere che in realtà vengano parlate. Questo è il punto fondamentale, perché esistono delle persone, cioè devono esistere delle persone che necessariamente parlano quella lingua, perché la sua concezione del mito è linguistica, non esiste una lingua che non contenga dentro una storia, non esiste una storia che non abbia una lingua che la racconti. Se non c'è una comunità di parlanti, non esiste questa storia. Cioè la stessa idea della history, che ovviamente non è del di Tolkien, però l'evoluzione del Silmarillion prevedeva che non solo ci fosse la storia dei popoli di Arda, ma ci fosse anche la storia delle lingue di questi popoli, perché poi lui inventava queste lingue e poi le traduceva con le lingue che lui conosceva, cioè le lingue del nostro mondo, quindi qui c'era il gioco. Però poi lui diceva che l'esperanto non funzionava perché non c'era una comunità di parlanti. Cioè paradossalmente è più vivo il quenio, il sindarin dell'esperanto, perché ci sono delle comunità di fan che le prendono e le parlano. Questo pensava Tolkien ed è vero anche oggi. Altrimenti fai come gli orchi che prendono la lingua, creata da Sauron, con le parole prese di qua e di là, e hanno una lingua nera che per carità viene parlata, ma non ha verità, perché è un copia in colla di altre cose che poi non trova una sua forma mitopoietica, perché alla base della lingua degli orchi non è che non c'è il linguaggio, c'è il linguaggio, ma questo linguaggio non veicola niente, non racconta nulla, quindi è un problemone incredibile, però è affascinante. Vero, vero, assolutamente vero. Sì, lui, ecco, Tolkien ha sempre scritto no, la storia, le sue storie fantastiche tramite appunto delle lingue che poi dopo magari, ecco, insomma, cioè insomma, alle volte sviluppava metà, mi viene da dire, mi viene da pensare l'elfico, no, in generale, o tutte le varianti di elfico che esistono, perché poi, ecco, il problema, forse il problema di questo processo creativo è che poi non finiva nulla, ecco. Verissimo, non puoi mai finire, perché come fai? Eh, esatto, io nella tesi scrivo anche questa cosa all'inizio, no, che è potenzialmente quello che viene chiamato oggi nel cinema, appunto, un multiverso, cioè un universo spazzo, scusate, come Star Wars, come il Marvel Cinematic Universe, ok, anche il Signore degli Anelli, no, e in generale il Legendarium, no? Siamo all'interno di un universo che potrebbe espandersi, che è un'unione di menti, perché poi dopo, per tornare al fatto che lui non ha inventato nulla, che non è suo, e tutto quanto, è una cosa a cui possono, appunto, possono partecipare anche altri artisti, altri scrittori, come nel caso anche degli illustratori, nel caso di Peter Jackson per i film, nel caso del figlio Christopher Tolkien per quanto riguarda il Silmarillion, alla fine l'ha composto lui, no? Eh, ecco, sono tutte cose che chiaramente poi dopo lasciano un po' l'amaro in bocca, perché, perché dici, eh, sarebbe bello essere come Eru, creare dal nulla, sì, grazie ai Valar, ok? Mettere insieme un'orchestrina, va bene, e tirar fuori un mondo, così, dal nulla, puff, prima non c'era niente, poi, e poi viene creato così dal nulla, ma questa cosa non è possibile, perché noi siamo degli esseri umani, appunto, in balia del destino, in balia della freccia del tempo, ok? E ci dobbiamo adattare. Sai che, eh, visto che hai citato le illustrazioni di Tolkien, ci sono delle minuzie nelle illustrazioni di Tolkien che spesso non si considerano, ma che sono bellissime per capire come ragionava. Cioè, tu hai parlato della prospettiva, dello studio prospettico all'interno, per esempio, di Casa Baggins, ma all'interno di Casa Baggins c'è addirittura l'orologio sulla mensola di Bilbo, e questa cosa è favolosa, perché nella Contea ci sono gli orologi. Cioè, voi vi immaginate Elrond con l'orologio? No, cioè, non è possibile, ma nella Contea ci sono gli orologi, come sono citati i treni, perché è una terra assolutamente moderna, e quindi Bilbo, nell'illustrazione, ha l'orologio sulla mensola. Poi c'è un'altra cosa fantastica, che in ben due occasioni, Bilbo, nella storia della Hobbit, ha gli stivali. Allora, tutti pensano che gli Hobbit abbiano sempre i piedi nudi e pelosi, ecco, è vero, però nell'Hobbit Bilbo riceve in regalo degli stivali, che poi ha, e lo troviamo sul nido delle aquile con gli stivali, quando si sveglia, e anche quando attraversa il fiume con i barili per far fuggire i nani, ha sempre gli stivali ai piedi. Eh, sarebbe stato facile per Tolkien non metterli lì, invece li mette perché era proprio attento al dettaglio, all'ennesima potenza. Quindi, ecco, per dire quanto studio c'era dietro anche a queste cose. Poi su ombra e luce, non so cosa tu abbia preso a riferimento in particolare, ma a me per esempio viene in mente la mitica illustrazione dei troll, cioè che sono all'interno di un bosco scuro, col fuoco in mezzo e questi occhi che escono e non si sa bene cosa siano queste creature, però dà già l'idea dello scontro, ecco, di polarità tra luce e ombra. Poi c'è quella famosa che però non c'era nell'edizione normale, perché era stata messa su un calendario, quella di, sempre sua, di Gandalf che punta fuori col raggio del sole con i troll che vengono pietrificati. Tra l'altro è l'illustrazione che nell'Hobbit ha notato, mi ha fatto scoprire che quelli erano i troll, perché c'era scritto sotto Gandalf e i troll pietrificati. E io all'epoca non avevo mai capito se fossero troll, perché si chiamavano nell'edizione italiana Uomini Neri e non c'era internet, non potevi sapere cos'erano questi misteriosi Uomini Neri. E quando l'ho vista la prima volta ha fatto un colpo e mi si è accesa la lampadina. Quindi hai preso a riferimento qualche illustrazione di Tolkien per riflettere su questa polarità? Assolutamente sì, in particolar modo quelle di Alan Lee e Ted Nassmith. Non ovviamente, senza ignorare anche tutti gli altri illustratori, tra i grandi tre, quello che ho escluso più di tutti è John Howie, sempre a questione di spazio, perché purtroppo appunto quello è lo spazio e avevo più cose da dire riguardo ad Alan Lee e Ted Nassmith. E in particolar modo di Alan Lee ne ho prese tre a riferimento. Una che è molto simile a quella dei, secondo me, è molto simile a quella dei troll, ovvero i Cavalieri Neri, dove appunto viene rappresentato... Se vuoi caricarla, la facciamo vedere. La carichiamo, la facciamo vedere, assolutamente sì. Un attimo che vado a ribeccarmi là. Intanto leggo il commento di Davide Jacopo Verga. Fortunatamente Tolkien, rispetto ad altri scrittori, non aveva la necessità di pubblicare, era già professore. Quindi si è dedicato a riscrivere continuamente le sue storie. Se pensi a Galadale, si è andato avanti a sistemare Galadale fino al mese prima di morire, perché non riusciva a far quadrare i conti. Però ecco, questo dà l'idea di quanto era ossessionato anche dal rendere verosimile tutta la sua costruzione. Poi voglio aggiungere una cosa a quello che ha detto Andrea. È verissimo questo discorso che Tolkien ha creato un universo espanso. Ma dobbiamo anche pensare che lui ha fatto quello che hanno fatto tradizioni di secoli di trasmissione di questi testi. Cioè noi nel nostro mondo di solito abbiamo delle culture che hanno prodotto dei testi anche di letteratura, di letteratura cavalleresca, di mitologia, di basti pensare a Re Artù, ecco, alla storia dei Nibelunghi. E nel corso dei secoli queste storie sono cambiate. E noi abbiamo varie versioni delle stesse storie a seconda del contesto di riferimento. In Tolkien tutto questo c'è perché lo stesso Tolkien ha dato varie versioni delle stesse storie scritte solo da lui. Lui ha fatto quello che intere culture in varie epoche hanno fatto. E questa è una cosa assolutamente unica, credo, nel panorama della letteratura. Perché non solo ha creato un universo espanso, ma ha creato anche le varianti, le trasmissioni dei testi delle varie redazioni, di come i vari personaggi, gli elfi, gli uomini, vedevano queste storie, davano la loro interpretazione e si dice. Quindi è una cosa assolutamente pazzesca, ecco, giusto per rispondere a questo problema. Intanto carico l'immagine e prego Andrea di raccontarci questa bellissima illustrazione che trovate nella versione illustrata del Signore degli Anelli di Alan Lee con i tre Nathgool. Credo acricunca, potrei sbagliare. Sì, 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 proprio il, se non sbaglio il capitolo era proprio quello dove era stato inserito e noi possiamo benissimo vedere qua. Allora, abbiamo i tre Nathgool, ok, con una flebile, ma proprio flebile luce negli occhi. Sono tutti e tre di un colore oscuro, ma proprio nero pece. Ecco, non nero totale, ma perché appunto, adesso lo dirò, Alan Lee utilizza l'acquarello e quindi l'acquarello non ti dà quel nero, nero che appunto potrebbe darti ad esempio il guazzo su tavola che è la tecnica che utilizza Ted Nasmith. E dietro invece è appunto una specie di paisaggio indefinito in realtà, dove abbiamo un lampo di luce che potrebbe essere il cielo, ok? Quella che sembra una cascata di luce che arriva a illuminare tutta la scena circostanza. Vediamo degli approcci di piante, questo un po' che ricorda quasi la selva oscura di Dante. Insomma, abbiamo dei riferimenti espliciti qui in merito all'argomento della luce e l'ombra in Alan Lee, perché Alan Lee tra l'altro è probabilmente il migliore tra tutti, cioè io lo ritengo sicuramente il migliore tra tutti gli illustratori tolkieniani e non a caso poi ha tirato subito l'attenzione sia di Peter Jackson che della HarperCollins che gli ha dato nel 92 appunto l'impiego di illustrare il Signore degli Anelli. Ovvero il fatto che lui è estremamente devoto al professore, no? Il suo procedimento artistico è, lo racconta all'interno sia dei, dietro le quinte appunto dei DVD del film della trilogia di Peter Jackson, sia all'interno di Schizzo e Bozzetto del Signore degli Anelli, ok? Che è l'unico testo insieme a quello dello Hobbit che ha mai pubblicato, lui non ha mai scritto libri ma ha pubblicato questa specie, anzi bellissimo tra l'altro questi due volumetti in cui raffigura e spiega insomma gli schizzi e preparatori soprattutto delle varie scene, scenografie, quant'altro costumi all'interno della trilogia filmica, quando appunto ha lavorato la trilogia cinematografica. Detto ciò, detto ciò appunto, dicevo che lui ha appunto un procedimento artistico quasi simile a quello di Tolkien e lui ha avuto sempre paura, sempre l'ansia di rovinare il lavoro di Tolkien, cioè di annebbiarlo per così dire, di sovrastarlo, di raffigurare qualcosa che non fosse vicino al vero, a quello che lui ha scritto. Anzi ha pure detto che appunto in certi casi alcune illustrazioni a lui non gli piacevano quelle che ha fatto lui perché non si avvicinavano minimamente a quelle, alle scene descritte all'interno dei romanzi. E quindi lui all'inizio fa semplicemente il disegno a matita, alle volte molto particolareggiato perché poi se vediamo altre illustrazioni come quelle di Moria, dove c'è proprio un'architettura, questo si vede bene nel libro del Schizze Bozzetti, dove c'è proprio un'architettura rifinita, quasi maniacale, come se fosse, come se stesse facendo un progetto di architettura vero e proprio. Con gli archi, proprio. Con gli archi, ma proprio qualcosa di pazzesco. Ecco, poi dopo la cosa che fa lui è lasciare tutto all'acquarello. No, l'acquarello, lo sappiamo, è un mezzo un po' intricato perché se tu lo lasci andare, no, questo macchia, vai in giro, non è che si ferma a lega i contorni della matita, a meno che vai lì e calchi bene la mano, ecco, l'acqua si ferma appena prima del bordo, però del resto l'acquarello tu lo metti sulla tela, lo metti sulla carta e questo si espande. Ecco, questo è il lavoro che lui ha fatto e che fa spesso con le sue illustrazioni. Qui lo vediamo molto bene. Lo vediamo molto bene perché appunto abbiamo dei punti nerissimi e dei punti da dove proviene la luce, ok? In questo caso la scena è totalmente calata nell'ombra. Abbiamo anche dei colori che sono il nero, il blu, il bluastro, il verdognolo, ok? Che ricordano completamente tutto l'opposto di quello che è una scena allegra. Ma infatti qua siamo in una delle scene cruciali in cui appunto i Nazgul sono all'inseguimento, ecco, degli Hobbit. E quindi abbiamo degli sprazzi di luce che servono in questo caso semplicemente a illuminare appunto la scena. Ne faccio vedere un'altra, se posso, perché appunto, ora te la condivido subito, perché appunto in questo caso invece è, diciamo, il contrario. Cioè lì adesso abbiamo visto i Cavalieri Neri dove dove abbiamo appunto l'ombra che viene, che praticamente domina, ok, un po' il tutto. Mentre per quanto riguarda l'ombra del passato, che è la scena... Famosa a casa Baggins. Esatto, a casa Baggins, dove c'è Gandalf e Frodo e dove Gandalf appunto spiega a Frodo la storia dell'anello. Abbiamo invece una scena al contrario, che in realtà inizia, diciamo, positivamente, perché comunque è il ritrovo di un vecchio amico, sono lì dopo la festa di Bilbo, anzi, un tempo dopo la festa di Bilbo, insomma, Frodo è ancora... non è ancora conscio del suo destino, di quello che andrà a fare. E vedete che comunque anche in questa scena, dove abbiamo Gandalf, che è monumentale, con la pipa in bocca mentre se la sta accendendo, mentre dietro vediamo Frodo con un barlume, non l'anello in mano, un barlume di luce in mano, è indefinito, non è proprio... non si vede bene. E poi alla lì inserisce una cosa interessante, secondo me, perché sopra vediamo appunto tutta l'architettura di casa Baggins e sotto vediamo il focolare, da cui parte tutta la luce, no? Che però, come possiamo vedere, anche qui governano i colori del verdognolo, comunque grigio spento, ecco, insomma, siamo comunque in un contesto minaccioso. Qui siamo in un contesto completamente incerto, non è l'oscurità di prima, perché non c'è il blu, non c'è il nero, c'è soltanto il verde, il verde governa in questa scena, il grigio al massimo. Ci sono degli spiazzi appunto di sprazzi di rosso, che però appunto dei carboni ardenti, ma niente di che. Ecco, abbiamo questa ombra che proprio inquina il momento pacifico che si stava vivendo un momento prima. Abbiamo Gandalf, che non è nemmeno lui sicuro di quello, di cosa sarà l'esito, ok? Di tutta la sfida. Abbiamo invece un Frodo che, come vediamo, è chinato, occhi socchiusi. Ricorda un po', ecco, Tosi lo dice all'interno del suo studio, se non ricordo male. Ricorda un po' quelle figure dei dipinti pre-Raffaeliti, tipo la Valkyria, no? Dove appunto abbiamo queste figure angeliche, un po', diciamo, quasi vicine alla Vergine Maria, ecco, insomma, a livello proprio di volto, a livello di caratteristica, no? Dunque, un fanciullo. Abbiamo davanti un fanciullo in questo caso. E qui appunto la luce c'è, sicuramente, perché la vediamo. C'è il camino che appunto illumina tutta la scena, vedete l'acquarello come confonde, ok? Tutte le figure, perché appunto il manto di Gandalf ha una certa, sembra quasi scomparire nella seconda parte, perché appunto Gandalf domina tutta la parte iniziale. Qua c'è proprio un gioco in prospettiva. Domina tutta la parte iniziale, devo dire tutta la parte bassa dell'illustrazione. E poi abbiamo appunto questa luce che, flebile, in qualche modo cerca appunto di illuminare, quasi un simbolo di speranza, un simbolo di... Però alla fine è tutto fumoso, è tutto incerto e indeciso. Qui sta effettivamente un po' la tematica della luce nell'ombra all'interno delle illustrazioni di Alan Lee, perché sostanzialmente vediamo scene, soprattutto nel caso appunto come queste, che sono cruciali, che ci danno tutta l'aria dell'indefinitezza, sia di quello che sarà poi l'avventura di Frodo e della Compagnia dell'Anello, ma sia quello che è del destino della Terra di Mezzo. Quarademenie dice, da notare come Frodo è più avvolto dall'ombra rispetto a Gandalf. È una bella notazione. È vero, abbiamo proprio un alone di ombra intorno dietro la figura di Frodo, mentre Gandalf invece è proprio alla luce. È perché qua comunque c'è la saggezza anche, perché appunto poi in questo caso Gandalf racconterà tutta la storia dell'Anello, dal appunto poi il possesso che avrà Gollum e poi tutte le ricerche che ha fatto. Quindi qua c'è proprio tutta la saggezza, viene spigionata tutta la saggezza di Gandalf. Giuliano Invictaleggio, bel nome, chiede, ci sono illustrazioni simili ma con Gandalf il bianco? Sarebbe bello vedere la situazione opposta dove dal grigiore che emana in questa si passa un Gandalf, lui stesso fonte di luce. Io non ne ricordo, c'è l'illustrazione? No, ce l'ha fatta Ted Nasmit. Ted Nasmit? Sì, stavo per dire proprio Ted Nasmit. Aspetta, adesso magari te la condivido perché c'ho pure quella. Sì, sì. Intanto qua si è scatenata una discussione perché Davide Jacopo Vergas ha detto che questa illustrazione che ha appena fatto vedere gli ricordi i mangiatori di patate. E Mari Zhang ha detto che sia per i colori che per la postura di Frodo. Però è vera questa cosa dei pre-Raffaelliti, guardate che i pre-Raffaelliti sono un po' la base per Tolkien. Cioè pre-Raffaelliti e Art Nouveau sono proprio riferimento artistico degli anni di Tolkien, quindi ci stanno benissimo. D'altra parte, guardate come Peter Jackson ha caratterizzato Lot Lorien nel film, cioè è il Medioevo inventato dei pre-Raffaelliti. È proprio la terra più pre-Raffaelliti in assoluto, quei drappi, le guglie, la donna seduta, l'angelicata a Arwen nel crepuscolo. È proprio quella roba là. Cioè hanno colto i riferimenti precisi. Ed eccoci qui all'altra illustrazione. Allora, questo è di Ted Nasmit, come ricordavi giustamente tu Paolo. Si tratta di Gandalf e Ombromanto. E come possiamo vedere qua, Gandalf è praticamente Berilla di Luce proprio. A parte la figurazione, che è veramente da mago merlino. Allora, se posso dire la mia, Ted Nasmit non è proprio bravo con le figure. Come dice Nicola, è un ottimo paesaggista, un mediocre. Esatto. Esatto. Lui, a livello di paesaggi, potrebbe fare invidia alle vedute venete del Settecento. Veramente. È proprio, siamo a quei livelli lì. Però a livello di personaggi mi dispiace, cioè qui non c'è azzeccato proprio nulla di Gandalf, perché questo è il classico mago merlino, che poi dopo, nel senso sì, magari se lo immaginava pure Tolkien, però... Un mago merlino disneyano, tra l'altro. Disneyano, esatto, sì, col manto blu, eccetera. Però per tornare a noi, vediamo come appunto questa scena è praticamente l'opposto di prima. A parte che Ted Nasmit, come ho detto prima, utilizza un tipo di tecnica completamente opposta, quella di Alan Lee, perché lui invece è al contrario di rilasciarlo, no? Nella tesi scrivo che Alan Lee ha proprio questa tipica capacità di far fuggire via il colore, no? L'acquerello sfuggevole, ok? Mentre Ted Nasmit al contrario cerca di catturarlo sempre il colore, cerca sempre di tenerlo nelle linee. Lui disegna e vuole che il colore rimanga lì, proprio appunto in ottica iperrealista, diciamo. Ecco, in questo caso, appunto, la luce viene proprio da Ombromanto e da Gandalf, e tutto intorno, a parte appunto, come vediamo appunto è un paesaggio dove c'è Ombromanto che appunto sta impennando, Gandalf fiero sopra il destriero, dietro tutto un paesaggio della Terra di Mezzo, con le nubi, tutto molto oscuro, queste nubi colorate di viola, bluastro, quindi non neanche grigie, ma proprio di un viola quasi minaccioso. Ecco, siamo in quel contesto lì, qua la luce non c'è se non appunto per l'orizzonte in fondo, e questo comunque perché poi siamo in una scena diversa. In questo caso, la speranza, la luce della la speranza, in questo caso letteralmente, arriva da Gandalf. Da Gandalf è Ombromanto, dal Gandalf, scusate, appunto, rinato in un mondo in penombra che ormai è sempre più minacciato da Mordor e da, appunto, dagli alleati di Mordor. E quindi sì, come possiamo vedere qua, è completamente il contrario a prima, anche se, anche se, appunto, siamo in un contesto diverso e soprattutto un illustratore diverso. Cioè qua la posa è plastica, è proprio, ricorda tanto, in questo caso ricorda molto i dipinti di Napoleone Bonaparte, che faceva lui David, che è il pittore di corte, appunto, di Napoleone. Quindi immaginiamo quella dell'incoronazione, immaginiamo quella di lui proprio a cavallo. Cioè c'è una famosissima dove c'è proprio una scena simile. Quindi è molto tutto, è tutto più plastico, è molto più, diciamo, controllato anche, meno confuso. Qua c'è proprio, c'è aria di sicurezza rispetto a prima. Anche un po' di prosopopea, ma come dice Corrado Coretti ombromanto dopo una serata di bagordi a Versailles. C'è proprio la chiniera, fulsa. Sui boccoli. Sui boccoli, esatto. Eh sì, cose completamente diverse. Comunque mi ricordo che Nazmet ha fatto anche Gandalf, che si presenta nella foresta di Fangorn, col colore davanti a Aragorn. Però come dici tu, dal punto di vista della creazione dei personaggi, come vengono raffigurati, a me non è mai piaciuto. Silmarillion è un po' meglio, ma come paesaggista invece è straordinario. Assolutamente straordinario e se è possibile vorrei far vedere un esempio di quanto effettivamente lui come paesaggista vale, beh, vale. Diciamo che vale. Giuliani Vicale dice Gandalf prima di Waterloo. Bellissimo. Eccolo qua. Eccolo. Questo è l'Itilian, l'Itilian secondo Ted Nasmith. E notiamo come qua ci sarebbero due figure, che forse non si non si vedono all'inizio, ma sono in basso a sinistra. A sinistra. C'è proprio tutto. Sì, c'è proprio un paesaggio idilliaco, come è quello dell'Itilian. E poi abbiamo queste due figurine in basso, che accendono un fuoco, Frodo dorme, presuppongo che dorma, e quant'altro. Quindi sì, insomma, Ted Nasmith è un paesaggista. Non c'è nient'altro da dire. Beh, io mi ricordo nel Silmarillion la veduta di Gondolin, la veduta di Amon Rude, ma anche quando fa le navi al qualonde è efficace. Quando fa le scene di insieme, quando fa i personaggi in primo piano non ci siamo pronti. Sì, no, perché poi lui ha questa cosa che deve essere mega dettagliato. Deve essere, deve entrare nei dettagli di qualsiasi cosa. Infatti, in una scena simile, in una scena appunto paesaggistica, dove ci sono tanti elementi anche in lontananza, questa cosa è perfetta. Anche perché poi, dopo lui, sembra quasi un simbolista, no? Sta lì a dipingere punto per punto. Beh, intanto Giuliano Invicta legge e ne spara un'altra meravigliosa. Fa tutto Sam, di sicuro dorme. Sì, sì, Sam cucinava mentre Frodo dorme. Assolutamente sì. Beh, dai, tipo Amazon, solo visioni di insieme, altrimenti direttamente il vicolo. Il grande problema è che ci sono gli scenari bellissimi e poi passi al monolocale, perché tutti gli ambienti interni hanno il problema di fare il monolocale. Sì, 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 green screen puro. Anzi, no, al contrario, perché fuori è green screen, tutto green screen nella serie di Amazon. Dentro, invece, qualcosina l'hanno ricostruita, perché, vabbè, dai, hai un miliardo di budget, qualcosa dovrai ricostruire, no? Però... Sì, perché hanno un miliardo di nani dentro. Cioè, quando trovi tutti i nani dentro un loculo da un metro quadrato e dopo fuori c'è il mondo, vabbè. Esatto. Hai altre immagini? No, dai, mi fermo qua. Ti fermi qua. Non avevi quella delle porte di Moria, l'ultima, dai. Sì. Ah, va bene, dai. L'ultima di Moria è lì delle porte di Moria, perché ci sono affezionato. Ok, va benissimo. Adesso carichiamo quella e dopo arriviamo a parlare dell'ultimo punto che hai trattato nella tua tesi. Eccola qua. Eccola qua. Allora, in questo caso siamo davanti alla porta di Moria, dove c'è il classico indovinello di te amici ed entrate. Ecco, qui la scena è totalmente, diciamo, anche un po' atipica, no? Perché Moria, lo sappiamo, è descritta appunto come una luce con questa specie di filigrana che illumina un po' il tutto. Poi ce l'immaginiamo benissimo dai film di Peter Jackson, ovviamente. quella è diventata iconica. Ecco, in questo caso Alan Lee sta disegnando nel momento in cui non c'è ancora i film di Peter Jackson. Tra l'altro, porta di Moria che ha disegnato lui, perché comunque lui faceva parte dell'arte director del film. E abbiamo appunto tutta la compagnia davanti a questa porta lucente, lucente che proprio emana luce, no? Come un ammasso generico di luce, con soprattutto, diciamo, queste piante che sormontano la montagna, lo stagno dietro di loro, che sembra quasi ghiacciato in questo caso, molto calmo. E comunque una scena tipica di Alan Lee, no? Molto cupa, estremamente minacciosa anche in questo caso. In questo caso l'incombenza viene dall'alto, perché come dicevo prima, appunto qua si vede perfettamente l'acquarello, si vede in alto a destra, si vede perfettamente l'acquarello che sfugge. Qui l'acquarello ha fatto quello che voleva lui, non c'erano figure, lui probabilmente ha disegnato solo le figure della compagnia e gli alberi, e poi dopo ha lasciato fare tutto ai colori blu, nero, che qui predominano, e quelli bianchi. E poi tutte le varie, ecco insomma, variazioni di grigio, sfumature di grigio. Ecco, la scena, come sappiamo, è abbastanza cupa anche nel libro, perché poi quella è stata una decisione difficile, una decisione che comunque si sa che si va verso un'incombenza, un'incombenza che è misteriosa, non si sa dove si va. L'unico entusiasta in questa situazione è Ghibli, perché ritorna appunto nelle porte di Moria, ritorna nel miniere di Moria, e appunto abbiamo una situazione che Alan Lira affigura come se fosse, sia speranzosa, ma chi lo sa, cioè il buio è sempre sopra di noi e ci sovrasta sempre, rischiamo sempre la pelle, questo lo sappiamo, ma forse c'è speranza. Allora, prima di passare all'ultima parte, volevo leggere il commento di Malinor che dice, Bilbo ha gli stivali anche nella scena di Smaug, è vero, me l'ero dimenticato, e poi sempre Malinor aggiunge, a volte riproducendo i suoi dipinti, scopre dei dettagli che mi fanno venire le lacrime, ma infatti a me è sempre piaciuto Tolkien illustratore, tutti quelli che dicono che non sapeva disegnare, era mediocre, sono sciocchezze. In realtà, secondo me, è parte fondamentale del fascino anche della sua narrazione, dell'Hobbit, non potrei pensarlo senza illustrazioni. Poi volevo salutare rapidamente Vincenzo Paura e Elena Ottobach, che sono arrivati alla fine, benvenuti anche a voi, e poi Anna dice, io ho la guida ai luoghi della terra di mezzo di Howe, mi piacciono i suoi disegni a matita, è vero, è molto bello, assomiglia un po' ai due sketchbook di Alan Lee, su Il Signore degli Anelli e dell'Hobbit, anche lì ha raccolto tutti i suoi disegni, anche John Howe, cioè sono i due autori che maggiormente veramente hanno codificato proprio l'immaginario tolkieniano, anche perché poi si sono occupati del film e l'abbiamo ripetuto non so quante volte, noi non riusciamo a schiodarci da quello dell'immaginario là, cioè per quanto io lo ami e per me sono il top del top, forse forse bisognerebbe uscire un po' dal solito, da questo stereotipo che si è fissato lì per sempre, chissà, Amazon poteva fare qualcosa di nuovo, ma alla fine non è che si sia distaccato troppo, tanto c'era lo stesso John Howe di mezzo, quindi torniamo sempre dalle stesse parti, ecco. E quindi arriviamo all'ultimo punto, beh adesso non è che vi facciamo fare la nottata rapidamente, è giusto per parlare anche di questo aspetto che ha a che fare appunto con la rappresentazione cinematografica di Peter Jackson, tu te ne sei occupato all'interno del tuo lavoro, come abbiamo già accennato qualcosa a proposito della polarità luce e ombra, come viene utilizzato per esempio nella scena di Galadriel o nella scena di Celob, come secondo te Peter Jackson ha utilizzato questi temi? Soprattutto tenendo conto del fatto che stiamo parlando di un film fantasy, perché se Tolkien non è fantasy, Signore degli Anelli è a tutti gli effetti un film fantasy, che è stato la pietra di paragone per il nuovo fantasy di oggi. E quindi essendo un film fantasy, un film fantasy ha bisogno dei contrasti molto forti, cioè c'è sempre la polarizzazione, no? Luce, tenebre, scontri marcati da questo punto di vista, beh a me viene in mente la scena di Gandalf che arriva all'Alba Guarda Est con la luce che arriva e invade l'orda nera degli orchi sotto, ma anche nell'Hobbit la scena che a me piace tantissimo, di Saruman che si scontra contro Sauron, di Gandalf che si scontra contro Sauron, Adol Guldur con la sfera di luce, con l'ombra che cerca di entrare e invece lui riesce con questa palla di luce riesce a tenerlo lontano. È una scena bellissima, al cinema mi ha emozionato. Allora te come hai visto un po' questo lavoro di Peter Jackson da questo punto di vista? Ma è un lavoro sicuramente sensazionale, c'è un lavoro prima di tutto di riscrittura del romanzo che penso non sia mai stato fatto, proprio nella storia del cinema. Vediamo cosa sta ad esempio, per fare una piccola deviazione, cosa sta facendo adesso Denis Villeneuve con Dune, vediamo dove andrà a parare, però cioè a livello proprio cinematografico, ricordiamolo sempre, il Signore degli Anelli prima di Peter Jackson era definito infilmabile. Ok, infilmabile. E anche quando lo stava facendo Peter Jackson, tutti non ci credevano, perché poi Peter Jackson è diventato famoso in quel film, prima non era così popolare, anzi, hanno detto, ma questo è un horror splatter, sì, è qualcosa di... Viveva in Nuova Zelanda, tra l'altro, non voleva, ha spostato tutta la produzione in Nuova Zelanda, ovviamente a Hollywood cosa avranno pensato? Insomma, i produttori in quel frangente pensavano a un fiasco totale. E invece, appunto, detto ciò, per tornare al nostro argomento, ecco, diciamo che Situ è nominato delle scene sicuramente esemplari. Lui insieme appunto alla Walsh e a che sono poi le aiutanti, le sceneggiatrici, insieme a lui, del film, hanno fatto appunto un lavoro di riscrittura proprio intera del romanzo. Ma quando dico riscrittura, per chi sia letto il romanzo, sia visto i film, lo sa benissimo. Banalmente il rapporto che c'è tra Gollum, Sam e Frodo, l'abbiamo nominato prima, no? Frodo e Sam litigano, perché questo appunto fa parte di un cliché, diciamo, narrativo dei film fantasy. O comunque in generale della cinematografia. E la luce dell'ombra, ecco, sono utilizzati in maniera alle volte opposta, proprio per via di questa riscrittura, ma proprio in luce del fatto che appunto, cioè come diceva Tolkien nelle lettere, quando il romanzo diventò famoso e molti produttori si fecero avanti per fare il film, il film poteva anche non avere tranquillamente tutte le cose che c'erano nel romanzo. Lui ha anche fatto un elenco tra le cose che potevano essere saltate, era molto corto l'elenco, però le cose che poteva, che si poteva evitare di mettere, tra cui Tom Bombadil. Tom Bombadil, lui, il capitolo di Tom Bombadil non lo voleva inserire, e questa cosa Peter Jackson l'ha rispettata assolutamente. E quindi dicevo che appunto ci sono, c'è questa, diciamo che la polarità della luce dell'ombra è inserita in maniera strutturata anche concretamente, visivamente. La Tosi fa notare una cosa nel libro L'arte in Tolkien, che Tolkien vedeva molti limiti nell'arte figurativa, cioè della pittura, nel teatro, eccetera. Ovvero che appunto uno scrittore, per farla breve, si scrive che appunto il protagonista mangia un pezzo di pane, questo è un procedimento procreativo incredibile, perché il lettore può immaginarsi tutto quello che è, diciamo, una scena che appunto potrebbe essere diversa una dall'altra, dal lettore a lettore, no? Anche in base a quello che si sta leggendo, mentre per quanto riguarda, e anche ai sentimenti che si provano nel momento in cui si legge, mentre per quanto riguarda il teatro, mettiamo, se il regista fa una scena dove mangia un pezzo di pane, quella è lì, tu la stai vedendo. Diciamo che appunto questa concretezza dell'arte era un limite a cui Tolkien effettivamente lo vedeva molto, no? E questa cosa ovviamente ha portato ai realizzatori del film, nei film, del film, praticamente di giocare molto su luci e ombre, anche perché poi banalmente il film e il cinema è fatto di luce e ombre, anche materialmente parlando. E ci sono quindi scene molto simili al romanzo. Mi viene in mente quella del Balrog, anzi il Balrog, prima di Peter Jackson non aveva una forma, era quasi una specie di sostanza, di buco, buco nero, di creatura veramente avvolta dalle fiamme, ok? Mentre per quanto riguarda Peter Jackson, perché il cinema è questione di immagini ed è una questione di concretezza visiva, tu devi dargli una forma, ok? Nel fantasy devi dare la creatura, devi proprio fargliere la vita. E in questo caso l'ombra è diventata appunto la famigerata creatura che adesso tutti noi abbiamo in mente, tra l'altro. Beh, nel film di Bakshi il Balrog era un uomo con la faccia da boh, da leone cinese e i mumbutt ai piedi. Quindi ecco, per dire che cos'era il Balrog prima di Peter Jackson, adesso fanno i pupazzetti ed è quella roba là. Ormai si è imposto a livello proprio nella nostra mente, così, in immaginario. Esatto. La Weta Workshop adesso, che è la casa, diciamo, degli effetti speciali del film, adesso la Weta Workshop ci fa, ci vende le statuine a millecento dollari. Anche i Funko Box che fanno sono quelli del film. Sì, 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 sì. E praticamente ora, il Balrog diciamo che è una questione chiusa, sappiamo com'è fatto forse. Poi, ecco, magari i nostalgici tolkieniani ne avranno da ridire, però io ho quella roba lì in mente, mi dici Balrog, ho quell'immagine lì in mente. Detto questo, quindi ci sono appunto delle scene simili in questo caso, perché poi dopo tutto il resto, le scene di Moria, sono molto simili a quelle del libro. Anche a livello appunto di luci, di quello che si vede, del colore anche utilizzato nella fotografia. quando la compagnia dell'anello è intrappolata, ok, abbiamo proprio una fotografia totalmente spenta, dove sì c'è luce, l'unico pezzo delle linee di Moria dove c'è luce, però completamente pallida. Quindi il discorso della luce dell'ombra è stato preso proprio in eredità da Peter Jackson, perché anche lui è, come Alan Lee, come Ted Nassmith sicuramente, anche un fan. Una persona, cioè lui ha letto la prima volta il romanzo a 18 anni, quando era in treno, in viaggio per lavoro, lo racconta spesso questa cosa, e da quel momento, da quando aveva 18 anni, lui voleva fare il film. O meglio, voleva vedere un film, voleva vedere il film. E tra l'altro ha detto che ha letto la versione con la copertina di Bakshi. Di Bakshi, sì, sì, è vero quella, perché lui è appunto nato in quell'epoca e avevano ristampato il Signore di Anelli in occasione del film, è vero. Sì, sì. E invece ci sono poi delle scene completamente opposte, come le scale di Kiritungol, perché poi le scale di Kiritungol appunto è una situazione narrativa diversa poi. Lì è proprio come appunto si dice, come dice Vogler nel libro Il viaggio dell'eroe, che poi è di base un libro importantissimo per il studio della sceneggiatura contemporanea, dove si analizzano tutti i punti, a partire diciamo appunto dall'inizio alla fine del viaggio dell'eroe all'interno di un film, di una storia, prendendo spunto chiaramente dal racconto classico del teatro greco fino ad arrivare ai giorni nostri. Ecco, in quel caso, nella tana di Shelob, Frodo praticamente affronta la sua seconda sfida, quella che Vogler chiama seconda sfida, prima della sfida finale, che infatti è Mordor. Per lui la sfida finale è quella a buttare l'anello nel monte fatto. Invece ci sono scene in cui non solo vengono riscritte in parte all'interno del film da Peter Jackson, ma ci sono scene in cui la luce e l'ombra hanno anche un significato completamente diverso, perché l'atmosfera che si vuole dare è opposta. In questo caso, la scena che c'è alla Locanda Brea. In quel caso, Tolkien ne approfitta, diciamo, per presentare un po' il mondo al di fuori della contea. È un modo anche per i personaggi di scoprire quelle che sono le varie razze che vivono all'interno della Terra di Mezzo. Ci sono nani, uomini, hobbit, eccetera. E quindi è, diciamo, tutto sommato, fino almeno all'arrivo dei Nazgul, un momento di vita, un momento proprio cordiale, anche abbastanza felice. Poi, tra l'altro, Tolkien, da bravo inglese, è in un pub, non me la puoi raffigurare come una scena infida, è come se fosse un posto bruttissimo, figura. Detto questo, invece, ci ricordiamo, invece, nel film di Peter Jackson, La Compagnia dell'Anello, com'è la scena taverna di, appunto, la Locanda Brea? Ce lo ricordiamo. Parte innanzitutto sotto la pioggia. Pioggia incessante. Piove sempre, Brea. Piove sempre. Anche nello Hobbit. Anche nello Hobbit, sì, sì. Piove sempre, è un postaccio, sembra un tour, sembra veramente di stare nel peggior posto. Il mondo, dove tutto è minaccioso. E questa cosa ci viene anche raccontata all'interno della Locanda. L'ambiente è tetro, l'ambiente è minaccioso. Vediamo Granpasso? No, Aragorn. Lo vediamo avvolto, appunto, nella nube della sua pipa, con il volto oscurato dal cappuccio. È una figura estremamente minacciosa. Ok? Anche, appunto, l'oste glielo dice, quando Frodo gli chiede, ma chi è quello? Ah, Granpasso, stai attento, è uno, appunto, degli uomini. No, 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 ma stai attento. Cioè, insomma, lì il contesto luce e ombra è ribaltato. Abbiamo una taverna che è minacciosa, da ogni punto di vista. Perché gli hobbit hanno lasciato la contea, hanno lasciato il loro salotto, diciamo, hanno lasciato la loro comfort zone. Anche la, diciamo, la coscienza è un po' alterata all'interno della Locanda. Perché vedi che rallenta tutto, fanno i primi piani sulle facce deformate, c'è il tizio che tracanna, sguardi ostili. Quindi è tutto, sì, caricatissimo, ecco, da questo punto di vista. Sono proprio i quattro che si ritrovano alle prese con un mondo peggio che minaccioso. Sì, quindi, beh, sai, lì non potevano fare la storia di Bill Felcioso e degli altri, come si chiama l'altro, Caprifoglio, che poi sono quelli che tornano nella contea. Allora hanno cercato di caricare gli avventori della Locanda come dei personaggi piuttosto sinistri per aumentare la carica negativa, ecco. Perché effettivamente quello che era al cancello non viene travolto dai Nazgul, ma è un collaboratore nei Nazgul, nel romanzo. Esatto. Sì, ci sta. Hanno riscritto tutta la storia per cercare di aumentare la parte proprio minacciosa, inquietante, per aumentare il dissidio dall'interno degli Hobbit, il loro animo. Anche per andare a step, diciamo, perché poi appunto nel film si taglia tutta quella parte iniziale del romanzo in cui a tutti gli effetti Jackson è l'unica parte in cui nei film si taglia così tanto, mi viene da dire. Non penso che ce ne siano altre parti dove si taglia così tanto, cioè capitoli interi. Abbiamo veramente capitoli interi completamente tolti, no? Ed è una, diciamo, un passaggio a step, perché prima loro incontrano i Nazgul, che è una scena molto simile a quella del, il Nazgul, scusate, il Cavaliere Nero. Lo incontrano, no? Che è una scena molto simile a quella del romanzo. E quindi da lì la suspense deve crescere. In un cinema, cioè in un film deve crescere la suspense, no? Non puoi far vedere il Cavaliere Nero, tutto che è oscuro, è tutto che sta per andare in malora e poi farmi vedere un momento gioviale in taverna come se fosse niente. Ecco, anche questo c'è da dire. E non hanno fatto cantare a Frodo la canzoncina dell'Uomo sulla Luna, che forse avrebbe stonato all'interno di tutta questa minacciosità, visto che poi viene anche portato in tripudio dal pubblico che ama particolarmente queste canzoncine della Contea. Quindi sì, diciamo che la caratterizzazione della locanda è assolutamente più a tinte fosche. Quindi ci sta. Assolutamente sì. Beh, poi non parliamo delle battaglie in cui lo scontro luce e tenebra è fondamentale. Assolutamente. Tu hai preso proprio la più esemplare che è il Fosso di Elm, che infatti poi è diventata un mito all'interno, anche penso degli addetti ai lavori, no? Diciamo per chi fa i film. Cioè il Fosso di Elm è diventata la battaglia, da prendere esempio per quando fai una battaglia. Tutta di notte, tutta sotto l'acqua. Esatto. Disperata, angosciante, che finisce poi con sta cavalcata fuori, mentre spunta il sole e arriva la luce. E arriva Gandalf. Sì, sì, sì. Lì è proprio la luce della speranza che colpisce di netto, ok, il campo della battaglia. Anche se prima abbiamo pure un momento dove quando arrivano gli elfi, che sembra appunto che se la si può fare, ecco, sostanzialmente. Però sì, in quel momento, in quella battaglia abbiamo tutto in ombra, tutto all'oscuro, appunto con la pioggia e quant'altro, tutto umido, tutto viscido, tutto... che veramente non c'è più speranza. Però poi ciò dopo ci ricordiamo. Ci ricordiamo come si ricorda anche Aragorn, che appena arriva l'alba, arriva anche Gandalf. E di conseguenza la vittoria. E poi Francesco Spoletti, finro da 86, dice anche il cameo di Peter Jackson che morde la carota, è minaccioso. Abrea. Sì, sì, guarda in camera, perché è una soggettiva carrello, no? Quindi guarda proprio in camera mentre morde la carota. Sì, sì, senti ridere, vederlo. Quindi, sì, beh, questa è la conferma del fatto che Il Signore degli Anelli, si può dire quello che si vuole, ma nella sua trasposizione cinematografica, è un film che ha cambiato la storia. Cioè, ha imposto, adesso può piacervi, può non piacervi, ma ha letteralmente cambiato la percezione dei film fantasy nella nostra epoca, ha imposto le trilogie e poi soprattutto ha imposto una visione di Tolkien, perché il nostro Andrea, per esempio, ha detto lui stesso che ha conosciuto Tolkien grazie a questi film, che hanno avuto un tale successo, non è che sia automatica la cosa. E voglio ricordare che La Bussola d'Oro, il primo capitolo di Queste Oscure Materie, non ha avuto nessun successo e non hanno fatto neanche i seguiti e adesso se chiedete per la strada nessuno sa di cosa si sta parlando. Non è in automatico che la trilogia del Signore degli Anelli avrebbe avuto per forza un successo, ma anche la recente serie Amazon non mi sembra che abbia avuto un impatto a livello dell'immaginario. Cioè, sì, vabbè, magari la gente ne parla male, ma non è che dopo pensi automaticamente a quella roba lì quando parli di Tolkien. Forse dipende anche dal tempo in cui sono usciti, ma anche dalla qualità, ecco, dal lavoro che è stato fatto e la prima trilogia è assolutamente straordinaria. Niente da dire. C'è uno che è cresciuto guardando la videocassetta del film di Bakshi, lo sa a memoria, però lo premo per quello che è. Lì c'era la canzoncina dell'Uomo sulla Luna, voglio ricordarlo. Non tradotta, lasciata in inglese, tra l'altro, per pensare che cura dei dettagli che c'era anche nell'adattamento italiano. Quindi, ormai siamo arrivati alla fine di questa nostra discussione e volevo rispondere a una cosa che è stata scritta da nessuno, bello come nome, un riferimento a Odisseo. Qualcuno ha visitato la mostra di Tolkien a Napoli, la suggerirebbe? Allora, guarda, io non l'ho visitata, io ho visitato quella di Roma, ne ho parlato in maniera critica e diciamo che qualcuno non l'ha presa bene. Ora, posso dirti questo, chi c'è stato mi ha detto che è molto meglio quella di Napoli, perché pare che abbiano comunque fatto tesoro delle critiche che hanno ricevuto. Quindi hanno organizzato tutto meglio, sia a livello di luci che a livello di esposizione, hanno messo le dettagli alle immagini, hanno accompagnato molto di più lo spettatore, quindi bene così, hanno migliorato e quindi l'esperienza sicuramente sarà migliore. Però più di là non mi spingo perché visto che dire la propria poi ti rende estremamente impopolare, come direbbe Woody Allen, mi fermo qua. Niente, quindi arrivati alla fine di questa serata, vedo che qualcuno in chat poi ha parlato di Dune, l'ha citato anche Andrea. Dune, sì, cambierà la percezione di Dune a livello massmediale, a livello di pubblico, non lo so. Si tratta di un capolavoro dal punto di vista visivo, è un film straordinario, niente da dire. Fa veramente un'esperienza vederlo all'IMAX, suoni, tutto quello che volete. Dal punto di vista della sceneggiatura, ci sono delle cose che, io l'ho già detto, mi hanno lasciato un po' perplesso. Adesso non prendete questa mia dichiarazione come se fosse la condanna di un film e che invece vi ha cambiato la vita. È un bellissimo film, ma da fan dei romanzi e anche del film di Lynch, che con tutti i mille, mille problemi che ha, però tutto sommato ci sono affezionato, però questo di Villeneuve, secondo me, ha delle mancanze e boh, mi dicono che le risolveranno col terzo film, speriamo, perché per adesso so che sono state girate un sacco di scene che sono state tagliate e secondo me servivano. Quindi o mi ho fatto una versione bella lunga con tutte le scene tagliate, allora cambio opinione o altrimenti manterrò questa mia idea che sì, è bellissimo dal punto di vista visivo, ma dal punto di vista della sceneggiatura, della storia, anche, boh, secondo me si poteva fare qualcosa di più, però opinioni personali. Beh, Andrea, ti lascio l'ultima parola prima di salutare tutti. Beh, allora, io non ho nient'altro da dire, in realtà, se non ringraziarti per avermi invitato qui stasera, è stato bello parlare di questa tesi a un anno di distanza, che tra le altre cose, ora non voglio fare critica né niente, però è una tesi che cioè, che non, diciamo, ha la sua ha la sua settorialità di nicchia e quindi non ho mai avuto modo effettivamente di parlarne se non privatamente e quindi veramente grazie per avermi invitato perché ho potuto insomma dare anche la mia visione del leggendarium tolkieniano ecco, più più in grande. Ecco, diciamo. Guarda, poi non so rispondere a Filippo Ponte che scrive come faccio inserire tolkien in una tesi di diritto amministrativo ma è già difficile inserirlo all'interno di una tesi letteraria o cose così figuriamoci. Pensa, io l'ho fatta sull'arte anche l'ho fatta sull'arte quindi immagina quanto consenso ho ricevuto. Il diritto è la proprietà nella conteo o qualcosa del genere. E poi comunque voglio lasciarvi con un messaggio di speranza che ci dà il nostro oscuro signore stanotte c'è Restlemenia 40 non lo sapevo ma è una notizia che mi di gioia guarda adesso quasi quasi vado a guardarmela se non dormo ma ci si può pensare è una è una bella notte ecco quindi grazie a tutti grazie per essere stati qui con noi e già dai ci abbiamo fatto due ore un quarto non male poteva andare peggio e insomma grazie Andrea per averci portato grazie a te riflessioni e niente noi ci vediamo ah ricordo a tutti allora giovedì questo che viene l'undici sera ci troviamo con Roberto Arduini perché facciamo la seconda live sulla storia della terra di mezzo o meglio sulla genesi del Silmarillion quindi parleremo nello specifico sui live del Beleriand e dopo che abbiamo già parlato della del proto Silmarillion con la genesi dei racconti perduti l'altra volta e poi invece domenica faremo questa live sulla lettura e commento dell'Atrabet non so cosa verrà fuori ma confido che sarà qualcosa di bello perché non l'ha mai fatto nessuno facciamo una cosa abbastanza diversa e quindi grazie a tutti e ancora una volta grazie Andrea di essere stati qui con noi e niente buonanotte ci vediamo le prossime volte ciao 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 buonanotte